Ho fatto per come pensavo io, me le ha date quasi tutte sbagliate. Come quasi tutte sbagliate? No, no, quelle dell'Emotional Battery Test, quello dei colori. Eh sì, questo, me le ha date tutte rosse. Ah, tutte rosse, ho capito perché c'era l'altra... Marina, è l'altro aspetto. No, qualcuna sicuramente l'hai fatto da sola, anche da Annalisa, però mi sa che Sonia da qualcuna scopiare. No, Sonia non lo so, ma io l'ho fatto, era tutto rosso, c'erano solamente due, c'erano due risposte. Perché era più registrata anche questa cosa. Dobbiamo capire, dobbiamo capire. Perché ha fatto le stesse cose, ha scritto le stesse cose. Allora, vabbè, a parte questa battuta simpatica così, però ecco, sarebbe carino riuscire a coinvolgere più persone possibili in questo lavoro, perché appunto se riusciamo a convalidarlo a livello internazionale, insomma, il riscontro sarebbe importante. Anche perché il nostro obiettivo, come vi dicevo anche l'altra volta, di arrivare a lavorare sulle emozioni è di ridurre il crimine, su poche parole. Quindi andare a individuare per tempo le personalità antisociali, le personalità che hanno disturbi sul comportamento di condotta, quindi anche disturbi di perattività e quant'altro, e riuscire meglio a modulare le loro caratteristiche in modo tale da evitare eccessi, che poi arrivino appunto per traumi infantili, per poca empatia a commettere da, insomma, abusi, magari anche di poca rilevanza, quindi stalking, mobbing, per qualcuno è di poca rilevanza, ma secondo me sono altrettanto gravissimi, e bullismo, ad arrivare a fare dei veri atti di abuso sessuale, abuso contro la persona, e magari discriminazione razziale, di genere, eccetera, anche con i transgender e via dicendo, fino anche a uccidere le persone, insomma, in maniera indiscriminata. Quindi è un lavoro che nasce per essere convalidato e poi per essere spostato anche su soggetti particolarmente a rischio, quindi disturbi di personalità, ma anche ragazzi affetti da autismo, che hanno noti disturbi del comportamento e poca, magari, empatia, no? Verso i loro coetanei. Quindi questo è un discorso molto articolato che faremo. Adesso volevo intanto, qui non c'è la lezione, mi sa che è lì. Mi ha tolto la chiavetta, vediamo. Ah sì, se c'è la chiavetta la trovo. No, no, se c'è la chiavetta la trovo. No, no, ha la lezione, sì, l'ho messo nella chiavetta. No, se c'è la chiavetta la trovo nella chiavetta. Quella in italiano è con i video, amore. Ok, allora, quella in inglese intanto mi metti dentro, per favore. I video, certo. I video, così se arriva il professor Stephen Shore è tutto pronto. Sure. Allora, dai che siamo in registrazione. Poi metti che se lo guarda. Allora, ecco, magari su questa lezione, adesso vediamo come viene, comunque speriamo bene, su questa lezione, se a parte il, arriva il professor Stephen Shore, magari facciamo un video a parte e su quello magari facciamo delle domandine a parte, eh. Proprio per darvi quei punti in più che spero che voi, trovando appunto persone, riusciate a convincerli, perché sapete qualcosa in più sulla materia. anche perché sul quaziente emozionale si sta lavorando tantissimo adesso in criminologia, proprio per andare a capire come si possono aiutare questi ragazzi a meglio relazionarsi. Poi io parlo della parte quella dove c'è... Allora, io sto cercando come la matta il materiale, ma io non... No, 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 ma non adesso. Adesso faccio la lezione normale. Che numero è? Cosa c'è scritto? No, devo andare a vedere nel file. Fammi andare lì, nel computer lì. Può essere che è nella... È nella chiavetta, l'altra. Sì, sì, perdona, eh. Allora, aspetta un attimo, tiro via questa chiavetta, non so perché, ma è strano che... Ah, forse l'ho trovata, aspetta un attimo, eh. No, la chiavetta lì serve poi per... No, 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 aspetta, forse l'ho trovata, l'ho trovata. Eh, ma è perché mi sembrava strano. No, questa l'ho già mostrata, questa lezione qua l'ho già mostrata. Quella con la farfalla l'avevo già mostrata. Io non ho scritto qualcosa in particolare. Allora... Dottoressa, è uscita la lezione. 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 Grazie a tutti. 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 Ecco che... Sopra un ciclo autista o con complessa disabilità, ok? Quindi lo dobbiamo fare questa valutazione sia per bambini che hanno l'autismo ma anche per bambini che hanno disabilità complesse. Quali sono le domande più frequenti? Quindi struttura di azione dello spazio, quindi dove si deve fare il trattamento, dove dobbiamo fare la terapia e la situazione dello spazio è cruciale, no? Perché stabilire se si deve essere la casa e la scuola e nel garden, per esempio garden center, kindergarten, è differente, no? Allora capire dove si deve fare la terapia è un elemento cruciale, a volte bisogna stabilire se è meglio farlo magari a casa, a scuola o in un centro, tipo centro scuola giardinaggio piuttosto che nello stesso giardino di casa o di un centro. comprendere quando si deve essere, per quanto tempo, no? Comprendere quando e quanto tempo devo fare la terapia, strutturazione del tempo è cruciale anche perché dobbiamo differenziarlo da ciclo a ciclo, no? Quindi dobbiamo differenziarlo da bambino a bambino perché ci sono bambini che magari reggono una terapia di, che ne so, due ore e magari quando programmi anche due ore poi tendono a farne tre e altri che invece non riescono a tenere una terapia di mezz'ora. Quindi già dopo venti minuti li vedi agitarsi e andarsene. Generalmente a me succede il contrario comunque, che programma di fare venti minuti e vogliono stare un'ora, che voglio fare un'ora e vogliono farne due, ecco, e quindi il bambino proprio gli piace stare in seduta, in terapia. Prevedibilità e ripetizione delle attività proposte. Quindi che cosa devo fare? Devo evitare di ripetire la misma attività e che l'attività può essere prevedibile perché se no non può attivare la motivazione, cioè rischio di non poter attivare la motivazione se l'attività è ripetitiva e prevedibile. Quindi devo sempre incutere nel bambino la domanda chissà che cosa mi fa vedere oggi la terapista. Per questa ragione che vi dico ogni volta cercate di mettervi da parte un oggetto, un gioco, un'attività che sapete che potrebbe piacere al bambino e che potreste tirar fuori un po' come una magia e impressionare il bambino colpirlo al punto che ogni volta lo motivate con l'interesse. La cura per la motivazione è questa perché se noi riusciamo a motivare bene il bambino ecco che riusciamo veramente ad avere la sua attenzione, tutta la sua voglia di apprendere e attiviamo quelle parti del cervello che abbiamo visto l'altra volta, sono dormienti già in un bambino anche sano e che in questi bambini soprattutto che sono autistici, defedati, malati, già hanno problemi di loro, possono essere invece importantissimi di attivarle perché queste aree tendono poi a supplementare quelle che sono state danneggiate. Quindi la motivazione, in questa maniera si può attivare la motivazione del bambino, ed è così importante perché? Perché migliora la tensione e la possibilità di attivare la plasticità cerebrale del bambino, e attivare l'area che lavorano meno, in questa maniera la parte che lavorano meno, in questa maniera la parte che lavorano meno in tutte le persone, in questo bambino deve supplementarlo in altre parti. Bene, ora vediamo la valutazione della motricità. Schema 1, motricità generale. Ecco, nello primo schema c'è la motricità generale, valutazione sulla motricità, generare il rigidimento posturale. Si deve valutare, si deve valutare, ecco, questo io lo dico sempre ai terapisti, quando fate una prima valutazione in un bambino, portatevi queste schede e segnatele, perché anche solo guardando queste schede aiuta moltissimo l'analista che non ha visto il bambino, che forse per distanza mai lo vedrà, o lo vedrà magari una volta nella sua vita, due massimo, o comunque quel mese che si dedicherà a quel bambino andando lì, ecco che nel frattempo se il terapista è in grado di compilare bene queste schede, sicuramente sarà in grado anche di dare una buona idea al terapista di quelle che sono le abilità del bambino, e quindi a presentarlo in maniera come, diciamo, quasi realista, ecco, come se il terapista fosse lì, insieme all'analista a vedere il bambino. Quindi, generare il rigidimento posturale, si deve crossare qui e dire se è ausente o se è molto frequente. E qui vediamo una gamma da 5 a 1, la di gradazione rara frequentemente, al quanto frequentemente, è molto frequente, è frequentissimo. In questa maniera, teniamo una gradazione che può aiutare al terapista a comprendere che se il ciclo tiene una postura del rigidimento generale di livello 1, quindi è molto frequente, quindi è molto frequente. Capacità di tenere l'equilibrio, per esempio, la capacità di stare in equilibrio è differente, la gradazione va da 1 a 5, è assente, è raramente frequente, e il pienso frequente, è frequente, è frequentissimo, ecco, ecco, questa è la capacità di stare in equilibrio, si può valutare quando un chico può camminare, ok? Se non può camminare è assente, è diretta la cosa, no? Se un bambino può camminare da solo, ovviamente è presente, potrà avere una gradazione da 2 a 5, no? Se può camminare, tiene una gradazione da 2 a 5, se non può camminare è assente, perché? Perché non può camminare, perché non può cominciare e non si può valutare l'equilibrio del nino. Quindi, si deve fare questa valutazione della motricità con molta attenzione. Può camminare in maniera adeguata, può camminare in maniera adeguata, già, camminare molto frequentemente in maniera adeguata. In questo caso, poniamo la croce qui, nel 5, ok? Tiene la capacità di correre, di andare rapido? Bueno, podemos croce che frequentemente tiene la capacità di correre rapido, 4, per esempio. Quindi, se ha la capacità di correre, di andare rapido, quindi non serve che proprio corra, faccia la maratona del secolo, ma basta che vada, abbia un andamento rapido, ecco che allora magari facciamo la crocetta su 4, va bene? Agilità, quindi abilità, motoria, saltar, arrampicarsi, scivolare, come si dice? Scivolare. Non mi viene in mente. Oddio. Guardo, guardo, non mi viene in mente, ci volate. Sì, sto guardando se Steven Shun ha risposto, ma non ha risposto ancora. Allora. 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 Ok, deslizzare. Ok, deslizzare. Allora, in questo caso, se deve stabilire come il chico si muove, per esempio, quando va nel centro garden o nel parco viejo e sta con altri bambini, no? Ecco, capire l'abilità del bambino a saltare, arrampicarsi, scivolare, è importante, lo si valuta magari in una situazione anche naturale. Quindi, quando è magari nel parco, nel centro giardinaggio e quindi o nel kindergarten, anche nell'asilo della scuola e magari ci sono questi giochi dove il bambino può saltare, arrampicarsi, scivolare e lì si valuta, no? Se tiene una, se siente, non ha senato, è uno. Tienes un puntejo. Sino, dos, tres, cuatro, cinque, sì, lo hace molto frequentemente. Coordinazione grossomotoria. Per la coordinazione grossomotoria si intende camminare, abrassare, muovere le mani con l'arco superior o inferior, stare in equilibrio, correr bene. Ecco, tutte queste sono coordinazioni grossomotoria. Quando un bambino fa in questa maniera, si può dare un puntejo di quattro o di cinque. coordinazione grossomotoria si intende la coordinazione di camminare bene, di stare bene in equilibrio, in piedi, di muovere bene gli arti superiori e inferiori, le mani, in maniera proprio grossolana, ecco, non fine, quindi non specifica, di un singolo gesto. E normalmente se il bambino riesce a fare questo, si dà un punteggio tra quattro e cinque, insomma, o quattro o cinque. coordinazione grossomotoria, quando il bambino ha la possibilità di prendere un bambino, per esempio, in le mani, e prendere le bocate per bere, fare la pinzatura per prendere il bambino, o libros. E puoi anche portare la pagina. E tutto questo rappresenta la coordinazione finosmotoria. È entrato qualcuno? Ha chiesto di entrare qualcuno? No, io ho chiesto di entrare qualcuno. Ah, ciao Sonia, benvenuta. Ecco, per coordinazione finomotoria intendiamo proprio questo, quindi la capacità di fare, girare la pagina di un libro, la capacità di prendere un bicchiere e berlo, la capacità di anche andare, come dire, a prendere con le dita una birra, per esempio. Ecco, allora, se questa capacità è assente, è uno. Se è molto frequente, sarà cinque. Ecco, queste abilità sono molto importanti, anche la capacità di afferrare al volo un oggetto, no? È un'abilità che si deve valutare, quindi anche con una palla di gomma, insomma, molto morbida, ovviamente, per non far male al bambino, si prova a lanciagliela e a vedere se cerca, almeno, se ha l'istinto di cercare di cogliere la palla. Poi, anche se non ci riesce, non importa. Dottoressa, sì, dimmi. Anche il fatto di prendere l'elastico e magari infilarlo dentro un manico di un mestolo è finemotoria? Esatto, sì, sì, come, non so, anche quando si mettono i chiodini dentro le tavolozze, quelle di plastica o di legno, anche quelle lì servono proprio perché il bambino con le ditina pinza il chiodino e lo inserisce dentro nel buchino. Quindi, tutto questo serve proprio per aiutarlo ad allenarsi in questo movimento, no? Di pinzatura e di inserimento degli oggetti in maniera precisa. Quindi, lo si può fare anche con gli anelli, per esempio, nei giochi di spiaggia spesso si fanno queste cose qui, oppure anche quando, appunto, prendiamo una birra in mano, in realtà, tutti i giorni noi lo facciamo questo gioco di coordinamento finemotoria. E così è con le posate, quando siamo a tavola, no? Quindi, sempre facciamo coordinazione finemotoria, quando siamo in la silla, in una mesa, per comare, e hacemos sempre attività di coordinazione finemotoria. e anche la capacità di aferra, no? Tomare qualcosa rapido e quando qualcuno lo pone alto, questa è una maniera per fare esercizio e se il chico può prendere il ballone il ballone, per esempio, può fare, potremmo fare la croce così, in 5. Quindi, se un bambino riesce a prendere il ballone al ballone, metteremo la croce sul 5. Quindi, è sdifferente la capacità di tomar il ballone al volo rispetto a lanzare il ballone, no? Quindi, è una cosa poterlo prendere il ballone al volo e in conto, invece, poterlo lanciare all'altra persona. E quindi, ci sono bambini che, per esempio, riescono ad afferrare il ballone o comunque più o meno lo possono fare, magari raramente lo facevano a Francesco, ti ricordi? Però, ogni tanto lo prendeva, però, non lo lanciava mai, ok? O al limite lo lanciava dall'altra parte, proprio così, in maniera molto svogliata, ma non con l'intenzione di lanciarlo a te. Quindi, non c'era questa motivazione a interagire con le persone, molto probabilmente. Se non, quando magari c'era la promessa di una caramella, allora lì si attivava differentemente. Ecco, anche un niño che abbiamo visto in questi mesi, nel mese scorso, ma è passato, stava in questa situazione che poteva tomare il ballone messa al volo, però, non sapeva relazionarsi e relanzartelo, adress, indietro, giocando, no? E nel gioco di società, in un gioco di società. Questo, ovviamente, inficcia molto la capacità poi del bambino di stare alla scuola, di stare con i compagni, di stare con i suoi coetanei, di socializzare, no? Questa abilità inficcia moltissimo in la abilità di socializzazione del bambino in la scuola, in kindergarten, anche in l'asilo, o nel centro gioco, no? In il centro del gioco del paese. Per questo ragione se deve lavorare molto in queste cose, perché per il bambino sono molto importanti, però, anche per il futuro e la autonomia del bambino. Quindi, quando si empieza a aiutar un bambino ad stare in piedi a camminare, poi si deve aiutar ad essere molte cose di coordinazione grossolana, migliorare, coordinazione finomotoria, capacità di tomar il bambino al volo, riponertelo al volo e provare piacere nel che a un chico le gusta molto stare adondolare, a girare su se stesso, su su mismo. In questo modo, ecco che, allora, anche qui, metteremo che ha un deficit, perché queste sono delle stereotipie, lo sappiamo benissimo, e quindi queste stereotipie avranno, se sono, diciamo così, presenti, avranno un punteggio bajo di uno. Se è assente, un punteggio ma salto dei sinkos, perché il nino sta bene. Eseguire abitudinariamente movimenti ripetitivi, ecco, essere sempre il mismo movimento con le manos, come gli ha esplicato, è un problema, perché tenere le manos impegnate molto a non essere nada, perché se il bambino continua a fare così e gira continuamente le mani su se stesse, non fa niente, quindi riuscire a impegnare le mani con gli oggetti, deve essere quindi con il draw o con il draw, poi dipende insomma dalla funzione di quel comportamento, dobbiamo riuscire a smuoverlo da quel movimento ripetitivo. E se il movimento ripetitivo è assente nel trattamento o nella seduta del trattamento, se pone 5, se no, se pone 1, se è molto frequente. Quindi nella seduta dobbiamo vedere se il movimento si è ripetuto in maniera molto frequente, metteremo che ha un punteggio basso, se no, metteremo un punteggio 5, quindi assente se non è stato presente. Perché poi può cambiare anche la situazione da giornata a giornata, se è stanco, se non è stanco, dall'umore, da tante cose, da tanti fattori. Poi, valutare come marcia il niño, come camina il bambino, quindi, se il piede tocca il pavimento, se con la modalità punta tacos, si, vediamo, se il niño marcia bien, con la modalità punta e tacos, che è buona, no? In questa maniera si pone 5, se non, non, poniamo uno, se non si pone 5, se assente, perché sta solo in punta, per esempio, se il bambino sta solo in punta, metteremo 5, per esempio, 1, no, sì, 5, perché non fa punta e tacco, ok? Se invece cammina bene con punta e tacco e marcia bene, ecco che allora metteremo 1. Il soggetto cammina nelle punte dei piedi, appunto, abbiamo detto 5, se il movimento è a scatti e podria ser por distonia che abbiamo comprendito l'altra vez con l'analisi del sistema del fascio neuronale, delle fasci neuronali extra piramidale, può dare una camminata a scattos clonica che non permette la diambulazione regolare e tambien un deficit del cerebrellum può dare un movimento di atassia tipica del deficit e per essere con nell'ex fragile è molto frequente di diagnosi rapida quando il niño sta cicchito proprio perché è camminata molto frequente ecco i movimenti a scatti sono tipici di quei movimenti che hanno i bambini che hanno distonia oppure un clono d'azione e che hanno quindi delle lesioni anche nel fascio extra piramidale e che a livello non solo cerebrale ma anche cerebellare hanno un deficit quindi anche la tassia è molto famosa per esempio la tassia di frederich che è un'infermità tipica nel mascolo come nell'ex fragile è molto similare però è una patologia che può essere diagnosticata rapidamente quando il niño si sta molto chiquitito può rester con perché quando è in pezzo a camminare cammina con una tassia se chiama e ecco il bambino con affetto da X fragile un po' come il bambino affetto da tassia di frederich ecco hanno questi movimenti a scatto per cui la diagnosi è molto precoce in questi casi proprio perché quando devono cominciare a questa camminata molto a gambe allargata molto particolare per cui è facile poi arrivare alla diagnosi almeno un piede nel movimento in avanti volge verso l'esterno se vediamo che un pies nel movimento sta verso l'esterno se pone differentemente dell'otros che sta posizionando bene l'otros sta esterno all'otros pies questo può aiutarsi a comprender che tiene una caminata con una infernità di me pareti e por questa ragione se deve hablar di esencia es esente quando non non tiene stamina viena e quando marcia mala uno perché è molto frecuente che che non pieza al externo per esempio ecco se il bambino cammina con un piede bene lo tiene bello dritto ma l'altro tende a rivolgerlo verso l'esterno ecco che allora molto probabilmente avrà un emiparesi poi capire se un emiparaparesi un emitetraparesi questo poi dipende sempre dal singolo caso quindi si deve andare a valutare qual è il danno dove è il danno a livello neuronale però quello che a noi ci interessa qui è fare la crocetta sul cinque quando il piede è ben posizionato rispetto all'altro piede e invece quando tende verso un piedino verso l'esterno mettere magari quattro tre due uno meno più frequente le braccia sono mantenute in maniera parallela al pavimento ecco tambien quando se marcia il nino marcia se marcia viene se controlla come stanno l'armi non le braccia se sta in equilibrio bene non necessita aprir molti braccia perché mantiene l'equilibrio solito si necessita alargar molti braccia perché tiene molta difficoltà allora anche qua le braccia sono mantenute in maniera parallela al pavimento se si vuole dire che camina bene e allora metteremo cinque se invece tende ad allargare molto le braccia o comunque a posizionarle in modo da attaccarsi magari anche a qualcosa aggrapparsi all'asta a un muro alla mamma al papà eccetera ecco che allora dobbiamo mettere tre due se è molto frequente poco frequente quanto frequente le braccia sono asimmetriche tra loro quando un nino tiene un problema di scogliosi lombare se pone dritto e se è molto ampia se pone uno assiente singolo quindi si mette il bambino dritto davanti a noi per valutare magari una scogliosi lombare ecco e facciamo mettere le braccia lungo il corpo si forma un triangolo tra il corpo e il gomito se tra il corpo e il gomito c'è un triangolo che tra destra e sinistra è uguale allora noi diciamo che è simmetrico e quindi metteremo uno se invece c'è una simmetria perché il bambino è particolarmente gobbo da una parte per cui da una parte il braccio sta deso il corpo e il triangolo non c'è dall'altra parte si allarga perché le braccia tendono a stare più allargato proprio per mantenere l'equilibrio ecco che allora metteremo a simmetria 5 e poi possiamo fare le diverse gradazioni in base al fatto che il bambino lo faccia sempre o lo faccia solo ogni tanto dipende se poi è un problema legato a un problema ortopedico allora lo farà sempre se invece è un problema più neuromico può essere che magari lo faccia solo in alcune situazioni quindi quando è più instabile o più stanco ecco le braccia non scendono lungo il corpo gli avambracci sono Quindi anche qua dobbiamo valutare la capacità di usare i gesti convenzionali, il sorriso, questi sono i primi segni di comunicazione aumentativa che noi insegniamo ma che tutti i bambini imparano a salutare con le mani, saluto con le mani, sorriso, quando si ingressa in un ambiente nuovo con compagneri e chicos della misma età, per esempio. Quindi la capacità di usare i gesti convenzionali, il sorriso, il saluto, sono gesti sociali che tutti i bambini imparano, per esempio salutare con la mano quando si entra in una stanza con i propri compagni coetanei all'asilo. Se assente questa capacità del gesto convenzionali, se pone su uno, se è molto frequente, quindi uno si assente, cinque sei frequente, molto frequente. Capacità di richiedere a gesti, quindi almeno indicare. Il pointing, indicare l'obietto che il mio chieras, è una maniera per comunicare, saper asserre l'amenda con il gesto del pointing, di indicare, è molto importante. La richiesta, l'amenda, ricordiamoci che è la richiesta, quindi la capacità di indicare è molto importante. Se è presente e molto frequente, sincos. Se no, se non lo assem nunca, uno. Capacità di richiedere verbalmente, di hablar e pedir que chieras. Esto es muy importante para l'autonomia, anche questo è molto importante para l'autonomia. Cinque se lo fa frequentemente, uno se non lo fa mal. Presenza di linguaggio ecolalico, quindi, ecolalico, perdone, è importante perché se tiene mucha ecolalia, stereotipi vocali, il nino non può comunicare. Quindi, in questo caso, se deve dire se è molto frequente o assente. Capacità di comunicare verbalmente, molto frequente, sincos, assente, uno. Quindi, anche la capacità di comunicare verbalmente, com'è di questo bambino. È molto frequente, cinque, è assente, uno. Risposta motoria alle richieste, quindi, alza la mano, il bambino alza la mano, batti le mani, fai, gira le mani così, come se esitassi una lampadina. Ecco, entrambi le mani, sono degli esercizi che anche i neurologi, i neuropediatri, i neuropsichiatri fanno fare ai bambini, per vedere proprio l'abilità del bambino di fare dei movimenti su richiesta. Uno, se è assente, cinque, se è molto frequente, anche qui con una gradazione. Risposta verbale alle richieste, in generale, prendi un foglio, scrivici, facci, non so, una figura o due figure interconnesse tra di loro, o comunque collegate tra di loro, come ti mostro su un foglio, c'è anche nel Minimental, e poi piega il foglio, cartoccelo e buttalo per terra, no? Si esce una serie di preguntas verbali, di azioni che il niño deve fare, come fare un disegno in un papele, poi tomare il papele e cartoccelo e buttarlo nella terra, no? Ecco, estutodos sono movimentos che se ordinano di asserla e il niño deve asserla nella sequenza che si vise, farà ottenere un risultato. E nel Minimental, come anche in un adulto, se devono asserla in questa maniera, no? Ecco, sono risposte verbali a delle richieste che si fanno anche nel Minimental, quindi anche negli adulti, e se è assente la capacità di eseguire questo compito semplice, di prendere un foglio, farci un disegno, e poi a cartocciarlo e buttarlo a terra, prenderà uno, se non lo sa fare, cinque. Ecco, poi valutazione delle associazioni, quindi della abilità del niño di guardare e fare qualcosa, no? Di mirare e fare una cosa, mira in tutto quello che sta facendo la mamma, per esempio. Ecco, è un'abilità che non è molto frequente in un niño, un chico autista. Questo racconto si deve valutare bene, se il niño lo ottiene e come lo ottiene, se è assente o se è molto frequente. E quindi la capacità di guardare e fare qualcosa, a noi sembra banale, ma non è così, eh? Lo sguardo su ciò che si fa o che fa magari la mamma, non è una cosa così ovvia. Quindi si deve osservare quando il bambino ha acquisito questa capacità. Anche qui se è frequente, è molto frequente, cinque, se è assente, uno. Ok, capacità, l'abilità di mirare e orare, quindi, mirare chi ha parlato. Questo è molto importante, perché il niño che ha un autismo molto severo, è molto difficile che ti guarda bene, perché tiene una, come si può esplicare, una tensione lateralizzata, talvez se deve escludire una neglect, quindi una emina tensione, una capacità di guardare da una parte del corpo, proprio perché il cervello da quella parte non permette alla persona di vedere. E quindi è il motivo questo per cui nel assessment delle preferenze cambiamo sempre posizione degli oggetti, se vi ricordate. Proprio per evitare che il bambino prenda sempre l'oggetto alla sua destra o sinistra, perché lui vede solo da quel lato lì, no? Ecco, questa è una valutazione che potete fare anche voi. Quindi, guardare e vedere se il vostro bimbo vi guarda quando parla, se ascolta e esegue le istruzioni, e se lo fa esattamente come gli avete chiesto voi. La capacità poi di parlare e fare, quindi descrivere ciò che si fa. La capacità, la capacità di descrivere ciò che fa il bambino mentre lo fa. Anche qui, se non lo hai, questa capacità è assente uno, se lo hai molto frequenti, sin costa. E nel medio, la variazione, lo fa raramente, lo fa, talvez lo fa intenzionamente, ma non sempre. La risposta non lingüistica. Il bambino ha la capacità di rispondere con le expresioni non vocali, e, per esempio, sorrisi, versi o ecologità al suono o a la vista di qualcosa che le gusta o non le gusta. Per esempio, se vedi la mamma o il papà, se vedi il bambino. Se il bambino risponde con un linguaggio non verbale, suo spontaneo, e fa un sorriso, vocalizza, fa un verso, quando vede o sente qualcosa, ecco che allora questo già ci può previre che ci sarà la possibilità di sviluppare il linguaggio. Ecco, proprio oggi, in televisione, dicevano che addirittura fino a 30 anni, o ieri, non mi ricordo, fino a 30 anni è possibile aiutare un bambino a sviluppare il linguaggio. Io, sinceramente, così ottimista, non sarei, e non andrei a illudere una mamma di un bambino di 20 anni che potrei sviluppare il linguaggio. Però, molto probabilmente, qualcuno ci è riuscito, quindi non bisogna disperare, insomma, fa sempre sperare bene, ecco, questa notizia, secondo me. Dottoressa, è per mia figlia che parla ostrovoto? Paversi! No, per me parla ostrovoto, perché non mi ha capitato? Ha voglia di parlare, ha voglia di parlare, Aurora. Quindi, no, devi aiutarla moltissimo a cercare di ripetere, ecco, è una tecnica che noi facciamo molto spesso in Ava, farvelo vedere te, Dario, e, ve lo faccio vedere con te, eh. Eh, eh, mira, dove sta, eh, ok, te veo, eh, immagina che questo qua è un mio autista. Ciao! Ok, eh, bueno, come stas, Davito? Come stas, tus bien? Eh, me, me, me. Ecco, sì, 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 sì. Ok, allora, la tecnica è proprio questa, è di avvicinare le tue labbra sulla mano della tua bimba, ok, e muoverle in maniera molto lenta, sì, 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 e rimetterle sulla sua mano, ok? Sulla sua mano. In modo tale che con la sua mano, lui, lei, il bambino, insomma, il cosciutello questo, ripeta la stessa parola, quindi, non so, casa, casa, tu lo devi proprio sillabare bene, e lui, casa, casa, capito? Ecco, questo è un esercizio che suggerisco, eh, tambien a Soraya, se chieras, un dia, aiutar un niño che non hable, che sta con, che sta con, che sta autista, eh, deve essere bene, perché? Perché se se hace con mucha frequenza, e se hace, se aiuta il niño, il padre, no? del niño, se ad apprendere bene, è molto rapido l'apprendimento, perché se il niño schiera, è motivato ad apprendere, questa è una maniera per aiutarlo a comprendere come deve muovere su boccas, ok? Questo è un modo proprio che suggerisco anche a Soraya di farlo, ma a tutti voi, a mamme, di bambini con disabili, perché se volete aiutare un bambino a imparare a parlare, ecco, questo è il modo più semplice, perché il bambino vede e sente, percepisce col tatto della mano, che è la parte che abbiamo visto, no? La mano è molto rappresentata nell'ombuncolo, che vi ho fatto vedere nel cervello l'altro giorno. Quindi hanno una, c'è una sensibilità particolare, e se noi proviamo, mentre parliamo adesso, a metterci la mano vicino alla bocca, percepiamo tutti i movimenti della mano. E questo ci permette proprio anche di facilitare la capacità del bambino, nel momento in cui gli rimettiamo la manina davanti alla sua bocca, a provare a parlare anche lui. E questo è, appunto, notizia proprio di oggi, che abbiamo sentito, se non sbaglio, su un telegiornale, insomma, anche abbastanza... Insomma, esatto. E che, appunto, addirittura fino a 30 anni è possibile sperare che un bambino possa attivare il linguaggio. Quindi, vuol dire che, evidentemente, qualcuno è riuscito anche a quell'età. Quindi, io non lo giurerei a nessun genitore, a partire dai nove anni in poi. Perché quel bambino che vi ho detto, che aveva nove anni, quando l'ho preso in carico io, ma quando ho cominciato a parlare, dieci anni, mi ho dovuto fare di terapia, la mamma era veramente molto assidua. Anche le vacanze non aveva fatto fare né a me né al bambino, perché dovevamo continuare su questa terapia e alla fine i risultati ci sono stati. Il bambino adesso parla. Quindi, sicuramente, se il lavoro è intensivo, è fatto bene, si riesce. Però la tecnica è proprio questa. Poi un'altra tecnica, ve l'avevo già detto, forse, è quello di prendere il bambino, metterlo sulla propria pancia e fare facendo vibrare moltissimo il torace. E sempre con la manina davanti alla bocca promuovere questo sembrava un po' indiani. Indiano d'America. Però questa vibrazione che si ha, quando si tiene il segnino in nostro corpo, e si ha, se ne sta vibrazione con vocale, aiuta moltissimo il nino ad apprendere la vocale, per esempio. Ecco, è importante anche con altri giochi, tipo il trenino Tommy. ero riuscita, con molti bambini, a insegnargli proprio tutte le lettere dell'alfabeto, dalla A alla Z, tutti i numeri, da 1 a 100. Quindi, in questo modo, il bambino con una canzoncina, che adesso vi faccio vedere, vi faccio sentire, comunque, se andate in Google, lo trovate perché, anzi, magari ve lo giro sul trenino Tommy. Ecco, trenino Thomas. Può essere che il trenino Thomas, io lo chiamo trenino Tommy. Tommy o Thomas? Sì, da una vita. Non devi lui dire, ma. Ecco, però mi sa che questo è in inglese, Thomas. Infatti, io lo chiamo trenino Tommy. No, me lo cerco in inglese, ma porca miseria. Trenino Tommy. A me sembrava che era così. No, a me compare solo Thomas qua, perché forse ho il, ecco, YouTube. Sì, trenino Thomas, comunque, sì, anche in italiano. e se andate su YouTube, li trovate tutti, questi, questi, queste musichette. Per esempio, ecco, ce ne sono alcuni sulla lettera, sul numero. Poi, va bene, questo qui, con il trenino Thomas, mi sa che è proprio, quasi un serial di cartoni animati di grandi avventure, ma non c'entra. Da lì, c'è qua. Non lo trovo. Non lo trovo. non lo trovo. Proviamo a vedere, qua nel PC, insomma. Ecco, se lo troviamo, vi mando il link, perché sia quello con i numeri, che con quello con le vocali, è molto funzionale, per insegnare a un bambino. Trenino Thomas. Trenino Thomas. Trenino Thomas, comunque, vocali e numeri. vocali e numeri. Vocali e numeri. Perché se no, ti trova un cartone animato che non è quello. E, niente, adesso vediamo poi le domande più frequenti. Quindi abbiamo detto, sono sempre queste, la struttura poi del tempo. Quando e per quanto tempo? Ecco. Bobba. Bobba, il trenino Bobba, forse anche, sì. Sì, un'ora. Ecco, come un'ora, no? È una canzoncina. Ah, singola. Vediamo, prova a farlo sentire. Ma spiega, retta. Ok, sì, l'ora è questo. Questo è un'ora, che tu è stato di nuovo. Ti do la trasmette, eh? erto, impediremo. Ok. Oh, 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 ah, 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 oh, oh, Grazie a tutti. Non si sente niente? Non si sente niente? Ecco, sentite? Sentite? Vabbè, niente, manda un link. Lo sentite? No, no, non lo sento. Sentite? No, c'è. C'è un'immaginina sopra dell'audio che è disattivato, non il microfono, l'audio. Allora, non c'entra niente, comunque ve lo mandiamo per l'unica, con il link così ve lo guardate con calzante, per un'ora. E a ripetizione c'è sempre questo, l'alfabeto, poi ci sono i numeri, poi ci sono le figure geometriche e così i bambini si divertono, li tenete occupati un'ora. I bambini che, almeno ho già scritto io fino adesso, quando gli mostro questo video, normalmente i genitori mi dicono che lo chiedono, lo chiedono spesso nella giornata, no? E quindi almeno un'oretta stanno lì, guardano, meglio che guardino questo piuttosto che altre stupidate, così almeno apprendono. E spontaneamente incominciano a dire magari delle piccole lettere, quindi pubblicamente dicono C, poi D, poi Z, poi L, poi L, poi I, e poi piano piano incominciano a dirle tutte in fila. Quindi serve per autostimolarli, automotivarli anche ad apprendere un po' da soli. Quindi quando magari dovete stare in macchina o siete dalla micca o dalla parrucchiera, non lo so, in certe situazioni che volete che la bimba sia calma e tranquilla, piuttosto che dargli un gioco inutile, dargli questo video, anche per qualche minuto, non per un'ora ovviamente, serve stimolando il bambino e poi improvvisamente viene fuori con qualche lettera. E già questo è una fase di apprendimento importante, perché il fatto che spontaneamente il bambino si sforzi a cercare di dire una parola è promuovente. Non sentiamo niente. Ecco, stavo dicendo... No, devi spegnere... Sì, attira il suo, per ora. Ok, stavo dicendo che è importantissimo aiutare il bambino a mantenersi impegnato e a imparare anche da solo. Quindi questo video, ovviamente non serve tutte le volte un'ora, magari quando avete bisogno che il bambino sia buono, se gli piace questo video, perché normalmente piace. Poi ce ne sono alcuni più divertenti, ve li troverò, che hanno proprio una canzoncina che io ormai avevo insegnato ad alcuni bambini. E cantando di questa canzoncina questi partivano già A, B, C, D! Proprio perché volevano starmi dietro alla canzoncina, quindi non facevo in tempo a dire A che loro avevano già detto A, B, B che avevano già detto B perché mi volevano precedere. E questo ovviamente motiva molto il bambino nell'imparare le lettere dell'alfabeto che poi gli serviranno per imparare quantomeno a leggere. Quindi se non abbiamo la possibilità di sperare che magari il bambino possa scrivere, quantomeno il fatto che sappia leggere o possa scrivere con il computer è già una buona cosa. E poi, per esempio, in Aurora, la bambina di Marianna, le consiglierei un computerino molto basic, che anche se cade a terra, pace. Ce l'hai? Buonissima. Ok. Ve l'hanno procurato? Perfetto. Ah, l'iPad. Devi fare con di schede. Ok. Per riuscire a ricogliutore. Ok. E allora in questo modo riuscirai anche a promuovere la sua attenzione. Ok. Io a volte dico i computerini quelli un po' più sempliciotti, proprio perché digitare su una tastiera può aiutarlo. Per cui se c'è la possibilità di collegarlo a una tastiera, ecco, perfetto, c'è la tastiera, brava. Ecco, l'importante è questo, perché aiuta molto l'individuazione delle lettere. Che magari su un iPad non è proprio immediato, ecco, per esperienza. Invece su una tastiera di un computer mi sono trovata molto meglio. Poi, ovvio, ci sono bambini che possono arrivare a scrivere sulla tastiera e andranno a scuola con questo strumento, perché non potranno scrivere con la penna, perché appunto o sono stanchi o comunque la forza muscolare è limitata a causa della patologia, soprattutto se c'è una tetraparesispastica. laddove invece la tetraparesispastica non c'è, ovvio che bisogna insistere perché apprendono a scrivere anche con la mano, perché potrebbe essere sempre utile scrivere aiuto. Come ti dicevo, deve fare sempre con la penna, ecco, perfetto, questo qui è il www.materialeaba.it. Penso che te l'abbiano preso da lì. Eh, ma sono identici. Comunicazione aumentativa? Ah, Zoe. Ok. Comunque sono identici. Se io ti faccio vedere, adesso andiamo in condivisione schermo e vi faccio vedere... Interrompendo. Devi condividere YouTube? No, devo condividere lo schermo. Auri pure ce l'ha questo computer. Chiudi la condivisione se tu hai... No, ne ho condivisione. Perché interrompi condivisione, dice? Boh, parla. Riprendi la presentazione. Vabbè, allora, riprendiamo la presentazione. Qui mi obbliga il computer a fare quello che dice lui. Allora, aspetta un po'. Eh, ecco, www... materiale.aba.imulatorino. Eccolo qua. Ok. Pronto da stampare per sessione Abba. Questo è il materiale che noi prendiamo spesso per lavorare. Per esempio, ecco, questa è la scheda delle emozioni. Su questo ho lavorato tantissimo con tanti bambini. E il materiale è pannello delle emozioni. Quindi, lunedì, mattina, pomeriggio, sera e notte, si mettono le diverse attività, pannello delle emozioni. Si dice appunto, siamo stati contenti, felici, si possono mettere anche gli smile. Però qui dentro avete proprio anche le faccine. Allora, vediamo. Motricità, numeri, puzzle... Beh, oddio, l'hanno ridotto al minimo adesso. Una volta era molto più numeroso, eh. Puzzle con numeri di ping. Ecco, questi qua sono dei puzzle semplici, per esempio. Uno, due, tre, quattro, cinque, così imparano anche a contare. Eh, devo dire che rispetto a una volta... Se vuoi vedere un video, la soluzione. Allora, no, no, sto guardando che c'è poca roba rispetto a una volta. Una volta era strapieno questo sito, invece adesso hanno proprio ridotto... Vabbè, comunque vedo che Marianna è già attrezzata con token da scaricare, ecco, così magari non lo dovete fare di nuovo, cosa che ho sempre fatto io per una vita. Ecco, le token della Peppa Pig, come le token di Alvin, di Topolino. Poi dipende dal bambino cosa gli piace. E c'è quella di Babbo Natale, per esempio. Lavoro per un regalo, siamo vicino a Natale qua. Fai prima questa attività, bravo, poi questa, poi questa, poi questa, poi questa, poi questa. Alla sesta attività fatta bene, ti concederò la possibilità di aprire un regalino. Quindi si fanno attaccare le cinque Babbo Natali che ci sono sotto e poi la foto del regalo che magari la mamma vi ha detto che potrà avere, non so, magari anche semplicemente una... Vi si mette qua una caramellina in 3D o una cioccolatina in 3D per fargli capire che otterrà quel premio. E non si può toccare fino a quando non si è fatta questa cosa. Quindi qui di token adesso ce ne sono parecchie, cosa che invece un tempo ce n'erano pochissime. Poi vediamo, ecco, materiale ABA italiano, le vocali giuste, sì, nomi comuni, nomi maschili, nomi femminili. Sto vedendo che hanno messo pochissima roba, hanno tolto un sacco di roba. Immagini per categoria, ah no, no, se entrate dentro più entrate più li trovate. Immagini per categoria, classificare in base alla categoria cibo giocattoli per fare anche gli abbinamenti. Quindi ogni immagine ha la sua ombra, immagine su ombra, le parti del corpo per fare le associazioni, le parti del corpo, ecco, stavamo parlando adesso appunto di fare una valutazione sulla motricità, sul camminare. Ecco, come vedete è questo il triangolino di cui parlavo, no? Più il braccio è adeso al corpo, più qua si vede un triangolo con il gomito. Vabbè, comunque sia, qui ci sono i capelli, qui c'è la bocca, non so, il collettino, la camicetta, il tronco, le braccia. Alma ha mandato un messaggio, dice fatela entrare. Ha detto di voi che vuole entrare. Ecco qua. Ancora non ha richiesto. Quindi parti del corpo, oggetti della cucina, non l'abbiamo ancora vista. Ecco qua sono gli oggetti della cucina, oggetti della cucina, quindi coltello, forchetta, cucchiaio, sedia, piatto, tavolo. Queste per esempio io le metterei in una token sul tavolo, ok? Quindi io non gli metterei nulla. La bambina deve richiedere con il ditino, piatto, forchetta, cucchiaio in base a quello che gli state preparando. E che vuole mettersi sul tavolo. Quindi la richiesta di andare a mangiare è quella di darvi la scheda del tavolo, no? Potrebbe essere per esempio. Questo lo utilizziamo moltissimo. Poi ho visto che li hanno classificati in modo diverso. A buon conto io vi consiglio di aprirle, scaricarvele sul vostro computer, poi stamparle, plastificarle, perché così sono indistruttibili e poi con il velcro, sia maschile che femminile, attaccare qua le immagini che devono avere ovviamente anche loro il velcro maschile o femminile in base a quello che avete deciso per poter poi... Ovviamente se decidete che qua mettete il maschio, il velcro maschio, dall'altra parte mettete su tutte le schedine movibili il velcro femmina. Insomma, quello che dà meno fastidio a vostro figlio, Viglia, perché se magari sono sensibili alle punturine del velcro, è meglio fare il contrario. Quindi mettere la parte più morbida dove si attacca la schedina piuttosto che sulla schedina, insomma. Questa è una cosa che valutate voi. Qui non so le persone, qui la giraffa, le farfalle, la formica, metterete l'immagine della formica, qui la Coca-Cola, una tazza e uno scivolo, magari anche su un'immagine da cartuna rispetto a un'immagine dal vero, dal vivo, perché possa generalizzare il concetto. Le prime volte è sempre meglio prendere un'immagine che sia più... Lancia un commento su... Vabbè, questa è la solita pubblicità che si fanno. Allora, anche qua scheda categoria, ecco, ritaglia le immagini e incollarle nel riquadro corrispondente. Ok? Quindi sono queste le immagini e devono metterle nel riquadro corrispondente. Quindi ecco, vi consiglio proprio di usare queste schede. Sono qua, sono qua! Ecco, ciao Alma. Su questo sito www.materialeaba.it, contro il C, ve lo metto anche qui in chat, così ve lo potete andare a recuperare. Siamo su YouTube, in streaming. Controlli, no, è meglio di no. No, perché intanto Soreia non ha un vantaggio. Poi per ti spiegare, per te lo devo spiegare anche la ricerca, non ti preoccupare. No, è meglio di no. Ok, in questa maniera, invio in chat il www.materialeaba.it, è in italiano, però talvez non necessita... Veronica è scappata e io sono entrata. La voce! Mi sentite adesso? Ok, bevo il microfono. Allora, ho messo in chat il www.materialeaba.it, qua poi vi divertite, insomma. Io li avevo scaricati ai miei tempi, tutto. Avevo scaricato perché mi serviva tutto. Poi ho visto che adesso sono cambiate alcune schede, addirittura le token da scaricare sono anche più carine, per cui magari lo terrò presente invece di andarle a cercare su Google. Ecco, la token di Peppa Pig l'ho presentata a quel bambino che vi ho detto la volta scorsa, proprio questo, e lui sì, lo eseguiva ma con poca motivazione, insomma, quasi con automatismo e disinteresse. la cosa importante è sempre cercare di promuoverlo per ottenere un rinforzo. quindi lavoro per, sto trabajando per ottenere questo regalito, questo obiettivo, no? di poter essere questa attività, che può essere un obiettivo, che può essere un oggetto, ma anche un'attività che gli piace fare al bambino. e allora in questo modo si valuta poi che cosa sta facendo il bambino e che cosa veramente vuol fare il bambino. Allora, aspettate che controllo se Steve ha visto. perché lui è contemporaneamente a un convegno e non vorrei che gli hanno dato proprio da parlare mentre dovevamo trovarci oggi. Però è un convegno nel Bangladesh. No, non lo so se è nel Bangladesh. Sono almeno tre speaker, sono della Delphi University, quindi potrebbe essere che gli indiani sono venuti, magari sono andati lì alla Delphi, non lo so. È International Comprensive Education, Panfereson, Comprehensive Education, Altribandrum, non so, ecco. Vediamo se si... No, non si vede perché ce l'ho... Ah, aspetta. Ecco qua. E qui c'è anche il professor appunto Stephen Shore che dovrebbe collegarsi con noi, ma se gli hanno dato da parlare adesso dubito che potrà farlo, oppure lo farà appena smette. Ecco, quindi questo qui, ecco, il token del comportamento settimanale, questo volevo farvelo vedere. Sono stato bravo, magari la domenica si può fare un riepilogo, no? Lunedì, sì. Martedì, meglio non metterlo. Mercoledì, sì. Giovedì, sì. Venerdì, sì. Sabato, lasciamo stare. Domenica, sì. Ok? Ecco, questo proprio per cercare di ricordarsi un po' come è andata la settimana. E magari glielo si appende nella cameretta o nella cucina in modo tale da fargli un riassunto di come è andata la settimana. Ecco, alcune di queste token economy, come vedete, sono anche su Marsha e Orso che ci vanno matti tantissimi bambini. E allora anche qua glielo si fa disegnare, colorare magari, e poi si fa lavoro per... E poi tutti questi qua vanno ovviamente appiccicati sopra. Ecco, più riuscite a personalizzare, io lo dico sempre... Non ti vede niente, dottoressa. Ah, ok. Non è condiviso. Vabbè, comunque, quando andate nel... come si dice... nel sito, riuscite a vederli tutti, eh. Queste schede sono tantissime. Ecco, Marsha e Orso, per esempio, io l'ho usato tantissimo perché erano veramente, non so, tanti bambini che andavano matti per questo cartone e quindi mi è risultato molto funzionale. Poi, vabbè, ovviamente ognuno fa le cose in base al bambino che ha in quel momento. Appunto, la peppa pigga, anche, ho sempre utilizzato molto, topolino, oli e benji, tantissimo. Anche in Bolivia lo conoscono bene, oli e benji, e per cui anche questo qua piaceva molto. Bene. Allora, quello che vi consiglio, ecco, poi è di motivare il bambino in base anche ai suoi gusti. Più voi riuscite a entrare nei gusti del bambino, più riuscite, perché è una cosa che consiglio sempre ai terapisti, più riuscite a lavorare bene con quel bambino. Io l'ho scritto in chat. Quindi, che cosa? Il link? Se fanno fare, le bittiamoci nel testo a qualcuno, ci richiediamo il link. Ah, ecco, allora, chi riesce... Cinque punti. No, un punto. Per ogni persona a cui riescono a fare l'Essential Battery Test. Siccome adesso dobbiamo diffonderlo, e quindi anche per voi ottenere i punti è importante, avete un punto garantito per ogni persona che vi fa l'Essential Battery Test. Se è un laditante è meglio. Per favore. Ti prego. Dario, ma cosa dici? Allora, ecco, una cosa importante, quando facciamo le valutazioni, ecco, dobbiamo stare molto attenti. Adesso abbiamo detto l'attenzione, no? La capacità di attenzione è molto importante da valutare in un minio, no? Con disabilità. La capacità di orientare la mira, no? Di guardare, no? Di orientarsi nello spazio e lo spazio nel tempo è molto importante. Se è molto frequente nel minio, cinque se le do come punto. Se no, le do su uno. Ok? Quindi se il bambino è capace di orientare lo sguardo nello spazio e nel tempo all'interno di una stanza, per esempio, di capire dov'era prima e dov'è dopo, dov'è l'inizio della stanza e dov'è la fine, ecco che questo mi permette di mettere una serie di giochi in punti diversi della stanza in modo tale che il bambino in autonomia va e fa queste attività, questi giochi. Questo è un metodo che usano molto gli americani che seguono magari in un centro tanti bambini affetti da autismo o da diverse disabilità in modo tale che ogni bambino entri e sappia cosa deve fare nelle proprie stanze e lo faccia in autonomia. La capacità poi di mantenere l'attenzione su un oggetto, la capacità di mantenere l'attenzione su un oggetto è molto difficile per un chico-artista. Si siente uno, si presenta e lo fa bene cinque, ok? E tutta la gradazione. Capacità di mantenere l'attenzione su una aczione di una persona, per esempio, mantener l'attenzione su un'azione, non so, si sto facendo un panino oppure visto versando l'acqua dalla bottiglia all'acqua sul bicchiere e il bambino mi guarda. Ecco, questa capacità di mantenere l'attenzione su un'azione che sta facendo magari la mamma in quel momento, anche qua deve essere valutata con attenzione. Capacità di portare a termine ciò che comincia, determinare la capacità di determinare quel che ha. Se è molto importante per il nino, terminare quel che impessa da ser è fondamentale per promuovere una buona condotta nella scuola, per esempio, quindi anche per una buona condotta nella scuola che il bambino sappia che una cosa che inizia a fare la deve finire e la deve terminare e lo sa fare, se questa capacità è assente, uno, se è presente e molto presente, cinque. Capacità, no, chi, cinque o sei, cambiare rapido un'attività da un'attività a un'altra. Quando il nino non le gusta essere una cosa e rapido cambia l'attività e va a essere un'altra attività. questo è differente, diversamente da valutare. Quindi, se è assente, sincos, se è molto frequente, uno. Quindi, cambiamenti troppo rapidi da un'attività all'altra perché il bambino non riesce a mantenere l'attenzione su un'attività e subito passa all'altra, qui si cambia il giro, no? E quindi, se è assente questa attività, cinque, gli dà un proteggio alto perché vuol dire che in realtà sa stare sulle attività e sui compiti e li sa terminare. Se invece passa rapidamente da un'attività all'altra o lo fa in fretta e male proprio giusto per farlo e finirla lì, ecco che allora gli do uno. Eccessiva attenzione ai dettagli. Tenemos niños che tengono un'ossession para dettagli e por esta ragona se è eccessiva esta tensión differentemente dall'otros casos ecco se pone cinco se assiente se es muy frecuente uno perché ovviamente il fatto che sia molto frecuente fa sì che il bambino magari sta lì su un'attività e guarda che ne so le ruote della macchinina e non fa più altro ok oppure incomincia a colorare in maniera compulsiva per cui poi sta solo su quell'attività quella scheda e poi non gliela si riesce neanche a togliere ecco in base poi al tipo di grafico che vi risulterà insomma se il bambino non so prendiamo il bambino uno il bambino due bambino tre nella categoria uno perché qui avevamo fatto solo dall'una e da quattro perché infatti si possono solo valutare queste tutte insieme no ecco che il bambino blu diciamo così chiamiamolo il bambino blu è un bambino che sicuramente ha capacità nell'orientamento nell'orientare lo sguardo ha capacità discreta anche a mantenere l'attenzione sull'oggetto ha una buona capacità a portare a termine ciò che comincia e anche una buona capacità a tenere l'attenzione sull'azione quello arancione invece cade proprio nella capacità di orientare lo sguardo nella stanza ma soprattutto cade nella capacità di portare di mantenere l'attenzione sull'azione quindi questo è un bambino che apprenderà poco perché ha un deficit proprio sull'attenzione il fatto che non riesca a guardare come si fa un panino come si fa versare l'acqua dalla bottiglia a un bicchiere inficcerà molto sulla sua capacità di apprendimento quindi questo è un bambino che io valuterei per una terapia anche farmacologica di supporto ok perché magari la mera terapia ABA da sola senza supportato da un farmaco apposito potrebbe non essere sufficiente essere diciamo poco proficua quantomeno ecco non a mantenimento non permettere il mantenimento delle cose acquisite quindi se noi vogliamo che le cose che gli insegniamo vengano mantenute magari gli consigliamo alla mamma e al papà una valutazione neuropsichiatrica per un eventuale deficit di attenzione se poi il medico gli consiglia il farmaco sollecitiamo i genitori a darglielo questo farmaco perché alcuni poi credono di essere intelligenti ma purtroppo tanto intelligenti non sono per opinioni loro fingono di darglielo quindi dicono al medico che glielo danno ma poi non glielo danno questo fa ancora più danno ovviamente al bambino e di conseguenza poi il medico magari lo valuta senza farmaco pensando che prenda il farmaco e questo va ovviamente ad alterare tutti i dati che il medico vede che non migliore quindi magari passa un altro farmaco e loro si prendono gioco anche di queste cose l'altra cosa che vi volevo appunto consigliare ecco con il bambino per esempio grigio ecco ecco questo bambino qua per esempio si orientava poco lo sguardo manteneva poco l'attenzione sull'oggetto però manteneva molto di più l'attenzione sulle azioni quindi ecco anche in questo caso qua magari si deve lavorare molto sulla motivazione magari l'oggetto come si sa negli autistici motiva più che l'azione e talvolta questo poi va a inficciare molto sull'attenzione di un bambino quindi bisogna promuoverlo con la motivazione però in questo caso come vedete ha la capacità di portare a termine ciò che comincia quindi questo è un bambino che sicuramente una volta motivato funzionerà bene ok quindi questo è un consiglio di un tipo di grafico da fare non copiare mi raccomando questo lo dico perché ho visto che qualche monellina sull'essential battery test ha copiato un po' emotional battery test si ha copiato un po' vi dico voi prendete il vostro bimbo bimba eccetera fate questa valutazione sulle associazioni io non ho copiato io ha parlato la nostra sogna io non ho copiato c'ho le prove ma noi abbiamo visto delle cose molto troppo simili per non essere cose strane cose strane anche un ok è stato copiato che poi è stato sovrapposto anche ai dati di un'altra persona vabbè comunque parte questo valutazione dell'attenzione quindi fate una valutazione sull'attenzione con le domande che vi ho fatto io fate una valutazione sull'associazione una valutazione sul verbale sul vocale una valutazione sulla camminata una valutazione sulla motricità in questo modo poi fate i grafici ok vedrete come vi verranno semplici grafici poi se voi li mettete in un excel e adesso vi faccio vedere come si fa così non potete dire che non ve l'ho mostrato quanto meno mi tolgo questa responsabilità e allora prendete un excel quindi una banale pagina in excel poi vi farò vedere cosa facciamo noi quando facciamo le pubblicazioni però quella è un'altra storia insomma tabella scrivete tabella o tabelle entrate in excel semplicemente andate a vedere le domande magari ve le avvicinate insomma ve le mettete lì vicino ve le stampate vedete voi e comunque aprite una pagina in excel e andate a ricopiare i dati che per esempio ho messo qua ok se io ricopio questi dati qua che erano 4.2 poi erano 2.3 2.3 poi cos'era categoria sì esatto 2.3 poi l'altro era 3 3.5 3.5 e questo era 4.5 ecco poi andate avanti così insomma quindi categoria questa qui è blu quindi qua metto blu blu poi li metto arancone che lì era 2.3 poi qui era aspetta quindi se questo è 2.3 questo è 2.5 ovviamente poi voi dovete vedere nel vostro bambino nel vostro bambino sarà diverso se non sbaglio vabbè adesso vi faccio un esempio così veloce andante perché voi dovete mettere una valutazione da 1 a 5 quindi potete mettere anche solo 4 2 3 2 3 e ancora 4 poi qua 2 quindi questa è sulla prima capacità poi questo qua invece è sulla seconda capacità quindi categoria abbiamo detto 4.2 vabbè facciamo 4 per far più in fretta qua 1 vabbè facciamo quasi 2 e poi lì quasi 3 vabbè perché dopo il 2.5 si generalizza e si passa al numero superiore sono regole di matematica così un po' generali che però aiutano a fare più in fretta i grafici quindi qui mettiamo arancione poi qua invece sul grigio mettiamo 2 poi questo ancora 2 quello lì è 3 e questo qua è 5 ecco quindi grigio grigio decido che blu corrisponde a non so il bambino di nome Andres così arancione corrisponde al bambino di nome per esempio non so Aurora e grigio corrisponde al bambino di nome Francesco va bene ecco che se io prendo questo grafico vado in disegno si non disegno dove ho ma devo aprirlo se non me lo fa vedere inserisci ecco grafici consigliati ecco prendiamo sempre gli histogrammi ragazzi eh perché questi nava sono quelli più funzionali in assoluto e non vengono mai contestati una cosa che vi consiglio è di mettere sempre bene le righe quindi fare sempre i quadretti così per quello che vi dico che anche prendere un quadernone va benissimo perché nella terapia ABBA deve essere tutto ben rappresentato quindi le robe fighettine non mi interessano non mi interessano le robe giuste ecco anche questo qui potrebbe andare bene perché come vedete è a quadrettoni si capisce bene e ci sono le righe tra le varie categorie quindi spiega che sono attività diverse fatte in diversi giorni ok e in questo caso come vedete questa tabella si assomiglia molto a quella che avevamo fatto prima ok ecco ve la metto qua vicino e l'avete fatta in pochi minuti vedete ecco se poi dopo volete essere più chiari mettete qua i nomi invece che il serial io il serial l'avevo fatto per una questione mi pare di anonimato quindi volevo che si sapesse però qua si potrebbe mettere Andress qui Aurora e qui Francesco e poi vedere questa categoria sull'attenzione come hanno funzionato questi bambini qua per esempio ok questo è solo un esempio per farvi capire come è importante lavorare con grande attenzione su queste raccolte dati quindi Excel fate la tabella e poi graficate questo è solo un esempio di graficatura che potete però fare anche su un quaderno a quadretti come vi ho detto facendo da 0 a 6 facendo tutti gli histogrammi quadretto per quadretto colorandoli bene e mettendo la categoria che sarebbe la categoria richiesta dalla domanda capacità di orientare lo sguardo capacità di orientare lo sguardo in Andress in Aurora in Francesco per esempio e idem nella categoria 2 che è la seconda domanda la terza o la quarta come vedete non ho messo la quinta e la sesta perché vanno all'inverso ok se l'avessi messo qua avrei ovviamente creato un bias un errore ok quindi evitiamo di fare errori questo invece è sulla categoria delle emozioni ecco che poi sarà una cosa che rivedremo anche con il professor Stephen Shore se si collega oggi ma se no noi lo facciamo lo stesso questa lezione perché a questo punto vorrei dire che farò un altro incontro magari sabato e domenica che adesso appena il professor Stephen Shore ha tempo perché abbiamo un po' l'urgenza di fare questa pubblicazione con lui e quindi devo spiegargli appunto com'è il lavoro nel concreto insomma mostrare le emozioni allora se il nino la valutazione emozionale è molto importante quando farete la parte pratica di questo corso faremo fare tutto un lavoro sulla sulle emozioni che forse mi pare Alma non ha ancora fatto quindi se Alma fosse interessata alla certificazione di Paul Ekman ce lo fa sapere eventualmente poi glielo facciamo fare la certificazione scusami dottoressa la certificazione di Paul Ekman sulla valutazione del stato emozionale del riconoscimento facciale no quello non l'ho fatto ecco visto che a te ti interessa acquisire più certificati mi avevi detto l'altro giorno valutiamo se fartelo fare ecco se tu hai intenzione di farlo magari segui la parte di training con il gruppo e poi dopo singolarmente potete accedere all'esame sperando che non ci sia un problema di linea quel giorno perché a volte capita purtroppo e se funziona bene il sistema l'esercitazione il test valutativo che viene fatto online ovviamente noi questo diciamo questa formazione l'abbiamo già fatta si paga direttamente al sito di Paul Ekman e sostanzialmente è un'opportunità che vi diamo e tra l'altro ve lo diamo all'interno del corso quindi con la possibilità di pagarlo molto meno proprio perché è molto importante riconoscere le emozioni è un lavoro su cui dovete secondo me stare molto attenti mostrare le emozioni di gioia tristezza paura e rabbia in modo adeguato allora qui mostra l'emozione come mostra l'emozione per esempio qua potremmo sempre fare l'esempio di Andressa Aurora e di Francesca Francesco qui sarebbe in realtà questo Francesco questo forse dopo il training che abbiamo fatto Andressa e questo forse Aurora poi chi delle due Aurore decidetelo voi sulle altre capacità devo dire che vedete che il Grigios è molto alto perché apprendeva molto facilmente questo bambino ovviamente non eravate voi qui era Diarra poi questo era Adelina e questo era Angelo ecco in questo momento seguivo questi tre ragazzi quindi l'ho fatto con questi tre ragazzi ovviamente ogni valutazione la prossima volta che ci accorgiamo che qualcuno gode che facciamo non facciamo niente semplicemente dovete meglio che lo fate da soli la cosa che vi consiglio è che se voi lo fate sul proprio sul vostro figlio vi viene molto più facile per esempio Alma potrebbe valutarlo su tutte e tre le sue figlie un giorno prende una figlia osserva una mostra osserva le emozioni mostra più gioia tristezza paura rabbia in modo adeguato e e quindi mette se è molto frequente l'adeguatezza dell'espressione dell'emozione e cinque se è assente uno la valutazione emozionale è nell'abilità del niño di mostrare le sue emozioni se è molto frequente cinque se no uno mostra le emozioni di maniera particolare particolare no potrebbe essere perché tal vez alcuni non mostrano le emozioni che sentono ma che creano piensano di poter esprimire e per essere con si possono creare relazioni conflittuali nei membri familiari ecco a volte capita che il bambino non è capace di esprimere le emozioni che sente e quindi cosa fa esprime le emozioni che conosce quella che sa e ha riconosciuto negli altri quindi magari è felice però non so tende a come succedeva anche ad Andres abbiamo visto che lui la felicità a volte la confondeva con mi pare il disprezzo come per esempio anche si perché il disprezzo è lateralizzato è lateralizzato no fagli vedere tu com'è il disprezzo allora il disprezzo è così è un mezzo sorriso insomma quindi questo inficcia molto in un bambino autistico esatto in un bambino autistico che non sa riconoscere il disprezzo dalla felicità può confonderlo molto questo no e soprattutto nella microespression fasciale tipica dell'osservazione di Polekman si deve mirare bene l'ocos in questo caso anche se perché il bambino autistico il contempo la felicità dal disprezzo per esempio perché se il bambino autistico vede così lui non vede tutta la bocca guardando i dettagli magari vede soltanto una parte della bocca la vede sollevata come se fosse un sorriso l'altra parte non la guarda e subito pensa che è un sorriso esatto si mette a ridere anche che non è autistico ma questo errore attenzione guarda per una parte basta perché è di lato come prima o magari uno sguardo veloce senza guardare troppo bene e dice sta sorridendo e va ti gira all'altro lato e ha sorriso e invece non è così esattamente quindi anche noi persone normalissime possiamo avere questo confondimento nella vita quotidiana quindi se mostra le emozioni in maniera particolare dobbiamo osservare come mostra le emozioni in maniera particolare se per esempio uno è molto trattenuto cosa che abbiamo notato per esempio in Adelina che qui è diventata Adelina Adelina poi c'è nel powerpoint c'è un esame su Adelina sì 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 esatto ecco che allora qui vedete che per esempio lei ottiene uno ok in questa nel mostrare le espressioni in modo particolare perché in realtà non le mostro in modo particolare ma in maniera standard molto standardizzata espressività mimica del viso no se è molto frequente buona di buon livello il punteggio è alto potrebbe essere anche cinque per esempio no come adesso chi è che c'aveva cinque in questo caso tre nessuno diarra diarra tendeva avere quattro qua ecco chi è un pochino trattenuto non supera il tre normalmente perché non è non è il quanto frequente no che uno si respira cioè che ci sono persone più trattenute perché socialmente per esempio le cinesi le cine è molto frequente nella loro cultura non esprimere l'emozione di tristezza di paura e rabbia quasi maleducazione nella loro cultura per cui sono molto trattenuti dal farlo e poco espressive quindi una cinese che sorride è rarissimo e anche solamente la bozza di un sorriso minimale è un evento insomma ecco capacità mimica gestuale corporea quattro quindi gesti ecco anche questo lo dovete valutare perché se il bambino gesticola molto è un bambino che potrà facilmente insegnare a prendere la lista del linguaggio dei segni se no diversamente sarà molto difficile che possa comprendere il linguaggio dei segni quindi anche qui da 1 a 5 abilità nella mimica gestual corporea per prendere la lista per esempio il linguaggio di lidiamo con le mani abilità la comprensione delle emozioni di altre persone è molto importante e su emozioni propie reagire alla manifestazione emotiva e afectiva delle altre persone la reazione si è consensuale all'altra persona e sta empatia lo dicevo prima quando c'era solo Marianna il fatto di fare questo studio sulle emozioni sul quaziente emozionale da parte mia come pediatra e criminologa oltre che analista comportamentale adesso ho ricevuto l'attestato quindi è ufficiale che sono criminologa cosa bisogna fare bisogna farlo proprio perché è possibile lavorare su quei bambini che hanno disturbi di personalità antisociali sono appunto bambini che hanno disturbi sul comportamento hanno disturbi anche sull'attenzione come abbiamo visto prima quindi magari stanno poco attenti agli sguardi delle persone a prestare attenzione alle azioni delle persone ma soprattutto hanno difficoltà a relazionarsi a immedesimarsi anche nelle emozioni degli altri o malinterpretano le emozioni degli altri al punto da avere comportamenti antisociali che possono andare dal bullismo allo stalking al mobbing fino anche a reatti molto più gravi che poi sono perseguibili non solo civilmente ma anche penalmente e sono appunto non solo lo stalking nel bullismo perché adesso sono stati riconosciuti come vere violenze sulla persona ma anche abusi sessuali abusi fino a commettere maltrattamenti o addirittura omicidi in serial killer per esempio in America proprio l'altra sera c'era una bella serial che Dario ha avuto così di buon cuor suo la volontà di farmi vedere e mi ha fatto stare malissimo perché ho visto quattro episodi ma adesso ce ne sono infinità ho visto di un profiler di un criminologo che ha seguito tutti i casi dalle anni 70 ad oggi di casi di serial killer in America e quindi potete immaginare la raccolta che sto qua si è fatto di gente che ha avuto problemi proprio su questo aspetto sul quoziente emozionale cadevano questi soggetti quindi potevano essere anche molto intelligenti ma non avendo la capacità di instaurare relazioni con le persone si isolavano in un mondo loro di fantasie morbose che poi li portavano a commettere degli omicidi seriali e quindi un modo per valutare il quoziente emozionale bisogna trovarlo e secondo noi la sinestesia la capacità di abbinarlo ai colori è veramente molto importante perché ci allena tantissimo a esprimere le nostre emozioni non quelle di altri e soprattutto a sapere riconoscere la nostra voglia di manifestare la rabbia inconscia anche non solo quella conscia infatti come vedrete se poi vi facciamo vedere il video con il professor Steven Shore e comunque ve lo facciamo vedere lo stesso voi ve lo beccate e l'obiettivo qual è in questo in questo lavoro è valutare la persona sia quando è stato di coscienza che quando è stato di incoscienza come possiamo metterlo in stato di incoscienza facendogli fare l'ipnosi quindi vedrete me che parlo e che ipnotizzo alcune persone e che osservo come va il GSR gli elettrodi della pelle quindi qual è l'arousal lo stato tensivo emozionale della persona in quel momento con un apposito apparecchio e con il vocal tone percepiamo dalle onde sonore che mette la persona mentre parla l'emozione che sta esprimendo ovviamente normalmente in quello stato il paziente è tendenzialmente monotono quindi è un tono piuttosto stabile normalizzato perché è quasi in fase ipnagogica quindi sta per entrare nella fase di attormentamento e di conseguenza spesso e volentieri bisogna avvicinare un microfono che amplifichi un po' la voce in modo tale da captare anche le piccole variazioni della voce che ci permettono di cogliere le diverse emozioni che sta provando il soggetto in maniera inconscia anche perché non tutti i soggetti possono fare ipnosi c'è un test di Spiegel che ci permette di fare una prova per vedere se possiamo indurre quel soggetto in ipnosi oppure no ecco che allora con questo test noi riusciamo a capire se il soggetto comprende le emozioni le sa riconoscere perché subito dopo ci sarà un test di induzione dell'emozione e sa come reagisce alle emozioni delle altre persone che vede quindi se è consensuale oppure prova disprezzo prova rabbia cosa prova di fronte alle emozioni degli altri e la capacità anche di condividere settimo punto le commozioni degli altri è molto importante perché più una persona è capace di condividere le emozioni più è in grado di inserirsi infatti vedete Angelo qui era molto scarso è quello ragazzino che vi ho detto che aveva 27 di cui e che era un autismo a bassissimo funzionamento e ha sempre avuto molta difficoltà a interagire con le persone Diara e ovviamente Adelina in modo particolare ha 4 nella capacità di condividere le emozioni altrui quindi una capacità molto intensa reazioni irrascibili e aggressive alla volta gli autistici sono molto sensibili sì esatto ci potrebbe essere dei bambini all'opposto autistici che invece hanno una grandissima sensibilità però vi garantisco che ecco io normalmente di bambini autistici così sensibili si quello che mi menava sverri a pinco e panco tranne a me a me non li ha mai immollati ai terapisti però qui nessuno lo voleva più prendere in terapia ecco lui era un bambino che emozionalmente ho lavorato molto sul riconoscimento delle emozioni proprio con il www.materialeava.it e perché c'erano delle schede proprio intere su persone bionde, rosse more, scure di pelle insomma di tutti i tipi maschio e femmina con le varie emozioni le sette emozioni quindi rabbia disprezzo disgusto paura piuttosto che felicità eccetera e tutte queste cose mi avevano permesso poi di fargli riassociare delle foto di un'anzia di un cugino di una mamma di un papà eccetera in modo tale che il bambino o delle maestre degli insegnanti dei compagni di scuola in modo tale che il bambino riuscisse più a empatizzare con i suoi coetanei e questo l'ha reso molto più funzionale ecco reazioni irascibili e aggressive se ci sono qui si inverte la menata ovviamente il bambino non deve essere irascibile e aggressivo più è alto questo diciamo questo istogramma più in realtà il bambino qua non funziona bene ok ha dei problemi e viceversa insomma l'altra cosa è l'irrequetezza e i cambiamenti i bambini autistici spesso sono molto irrequete i cambiamenti quindi si agitano altri invece se ne fregano dipende da bambino a bambino i bambini che tendenzialmente sono molto sensibili alle emozioni degli altri sono i bambini down io ne ho riconosciuti parecchi perché ho fatto parte anche di associazioni dove si occupavano molto di sindrome di down e vi garantisco che sono i bambini da questo punto più teneri in assoluto perché hanno una grande empatia e capacità di empatizzare con le persone ecco che allora anche nella scuola dell'infanzia dobbiamo proporre agli insegnanti una raccolta dati sa chiedere aiuto ti ha chiesto aiuto nei primi 5 minuti 10, 15, 20 fino ai 60 minuti di un'ora di lezione che poi non è mai un'ora sono 45 minuti generalmente accetta l'aiuto offerto respinge l'aiuto offerto si attiva in seguito ad un aiuto richiesto ecco quali attività ripetitive esegue e quali sono quindi le attività che più frequentemente ripete in maniera ossessiva che occupano di più il suo tempo per girare su se stesso dondolarsi tutte queste cose qua ecco che allora in questi casi anche qua dobbiamo notare la frequenza di queste stereotipie o eccola lì e poi abbiamo detto ecco che il comportamento disadattativo che il soggetto manifesta di fronte a un qualunque evento ambientale a causa della propria difficoltà comunicativa e sociale può arrivare ad interferire con lo sviluppo e l'apprendimento di competenze sociali per chiedere o scegliere e o strumentare esempio lavoro in autonomia che rappresentano ecco il comportamento il conduttare il disadattativo inficcia molto in l'abilità sociale in l'apprendimento in la competenza sociale nell'hacermenda quindi le pregunte discriminare su scelta e determinar gli strumenti di lavoro in autonomia comportamenti problema autoheteragressività fa sempre la stessa cosa rompe tutto picchia gli altri non sta a sedere non collabora tira i capelli a tutti eccetera eccetera ecco tutte queste cose qua devono essere ben analizzate perché il comportamento che noi vediamo che noi osserviamo spesso è solo la punta di un iceberg enorme di cause invisibili e quindi dobbiamo studiare tutte queste cause invisibili in maniera indiretta quindi più siamo precisi nella raccolta dati più siamo capaci di capire quali sono le cause invisibili perché il nino fa sì perché non comprende la regla per esempio causa invisibile che non si può comprendere in una prima impressione si deve fare un analitico conduttale e ciò è fatto molto bene per comprendere perché si comporta in questa maniera perché non sa fare non sa fare quel gioco non puoi da essere quel gioco non le gusta perché non le gusta non le gusta il suegno non le gusta il rumore non le gusta il gioco non le gusta l'oggetto non le gusta il color ha comprendito che l'abbiamo esplicato di a sé e la comprensione in ingresso è sintegra quindi dobbiamo capire innanzitutto se il bambino capisce le regole se non sa fare quel gioco perché non lo sa fare perché magari gli dà fastidio il suono di quel gioco il colore o non gli piace il colore o non capisce il gioco esatto perché non capisce il linguaggio che noi utilizziamo la comprensione in entrata è deficitaria o non sa per quanto tempo non comprende per quanto tempo deve essere quel compito quindi non le importa perché non comprende quanto deve stare nell'esercitazione allora in questo caso è molto importante aiutarlo a apprendere che in 10 minuti cambiamo il gioco ok se non le gusta dopo 10 minuti dopo 10 secondi perdono cambiamo il gioco dovrà fare qualcosa quella cosa per 10 minuti e quindi diciamo guarda adesso ti siedi qua fai un disegno ti do 10 minuti disegna quello che vuoi però basta che disegni qualcosa ok però gli diamo un tempo anche questo aiuta molto un bambino quando la mamma mette sulla lavagna immaginiamo che sia questa che ho qui dietro la immagine del cibo significa che tu devi smettere di fare questo disegno non è interessato a quel gioco in quel momento o non riesce a comunicarlo potrebbe essere che non le gusta essere il ruoco o giocare in quell'istante in quel mismo momento no però un altro momento l'ingusteria se deve aiutarlo a comunicare a verbalizzare questa necessità no allora in questo caso dobbiamo aiutarlo a verbalizzare la necessità di dirti di farti capire adesso non lo voglio fare in questo momento però magari se ve lo dai nel pomeriggio te lo faccio il comportamento problema quindi spesso cosa succede viene rinforzato perché non ti piace va bene ti do un altro gioco allora il bambino cosa fa butta sempre per terra l'oggetto che non gli piace perché così sa che tanto ne ottiene un altro allora dobbiamo evitare di rinforzare il bambino ogni volta che getta l'oggetto gli si insegna a fare durante il pairing lo scambio dell'oggetto non mi piace questo mamma te lo do così ti faccio capire che non mi piace non lo voglio e giro la faccina dall'altra parte e aspetto con l'altra mano che tu mi dia un altro oggetto e te lo indico magari così ti aiuto a capire che voglio un altro gioco analisi funzionale quindi del comportamento problema svolge una funzione specifica ha un preciso intento comunicativo che va rispettato si correla con gli eventi che lo precedono e che segue e non si manifesta casualmente l'errore è pensare proprio che improvvisamente classica definizione non topografica e per niente corretta che mi fanno spesso alcune mamme alcuni insegnanti improvvisamente il bambino ha buttato per aria la scrivania già siccome è un bambino così non sapeva cosa fare ma non è mica un cagnolino voglio dire stiamo parlando di un bambino quindi ci sarà stato un evento suono della campanella che l'ha spaventato anche a me a volte magari se sono super pensiero mi suonano al citofono mi piglia un colpo non è una monade e salto su non è una monade come dire isolata dal mondo il bambino è autistico o meno che sia oppure quando passano delle moto mi spavento da morire o la croce rossa che quindi abbiamo un sacco ecco che allora può essere che in quei momenti tu percepisci che quel bambino ha avuto un fattore esterno che ha determinato quel suo comportamento perché si è incominciato ad agitare a volte questi bambini hanno una sensibilità incredibile nel capire nel percepire che sta arrivando magari il papà prima del solito dal lavoro e voi improvvisamente vedete che il bambino si agita come se dovesse prepararsi già per la cena e poi Green arriva al papà capite perché lo percepisce hanno una sensibilità ma anche superiore alla nostra talvolta quindi dobbiamo noi capire il loro livello di sensibilità ed è uguale al loro livello e lì siamo noi che dobbiamo fare l'esercitazione di Paul Ekman per il conoscimento sulle emozioni per capire meglio il bambino ipersensibile che abbiamo davanti può avere molteplici poi funzioni ecco questo comportamento problema lo sappiamo e noi il nostro obiettivo di terapisti comportamentali analisti comportamentali è quello di andare a comprendere e decifrare è una richiesta di attenzione è una fuga del compito è una richiesta di avere un oggetto è una richiesta di cura perché a volte può essere semplicemente una richiesta di avere una coccola magari non è né un oggetto né l'attenzione della mamma ma avere un momento per lui per avere una coccola ecco che allora questa funzione specifica ci aiuta a riparare e ridurre il comportamento problema riparare quel difetto di comunicazione che spesso il bambino autistico ha o anche non ha o non è un bambino autistico ma è un bambino con un'altra disabilità complessa che però può inficiare sul suo comportamento e attiva una serie di comportamenti problema che spesso riusciamo con fatica a decifrare a capire qual è la funzione lavorare quindi sui comportamenti problema significa definirli il più descrittamente possibile il bambino non vuole stare con gli altri verso se il bambino tira i capelli ai compagni allora è un conto dire che il bambino non vuole stare con gli altri è terribile nessun bambino come diceva Dario prima vuole stare da solo nessun bambino è isolato dal mondo tutti i bambini sono nel mondo quindi il bambino poco o tanto che sia percepisce il mondo a modo suo c'è un'esercitazione molto bella che Stephen Shore ci fece fare al master negli Stati Uniti che ho fatto tanti anni fa con lui in cui praticamente ci bendava ci legava ci metteva la benda sugli occhi ci metteva le cuffie sulle orecchie e poi facevano avevamo tutti i compagni che facevano un gran casino intorno a noi e lui stava lì a guardare col cronometro quanti minuti resistevamo ovviamente c'era chi resisteva anche 5-10 minuti c'era chi dopo un minuto sclerava ok e questo era abbastanza imprevedibile capire chi era nel senso che noi daremo per scontato magari se avremo la fortuna di trovarci una volta lo faremo questo esercizio se avete potete farlo anche tra di voi vi filmate perché è molto interessante però dovete fare un gran casino mettervi lì in 4-5 fare un gran casino per disturbare la persona ma poi avevano preso qualunque cosa io mi fado anche più madonna a caso mia va bene quella cosa così ma tutti su un piano non suddivisi no no lo facciamo con le tue figlie però lo facciamo a giù ma no tutti su un piano e non suddivisi ma non cosa abbiamo un nino di resp c'è lì sì l'abbiamo scoperto è qua proprio all'ingresso è che bello è la cucina non la vediamo quando si bruciano subito qua lì sai fuoco prendi un accendino la bruci lì subito che è meglio e così non ti arrivano più altri col fumo non col fuoco quindi bruciamo ma c'è nel momento che fai il fumo te li scappa e ti fa tornare facciamo le costine poi andiamo lì col fumo e abbiamo una costina è bene vedi lei la trovo la soluzione no 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 il fuoco è meglio perché con il fuoco non ti arrivano più no fuoco bruciamo la casa che stai dicendo il fumo no vabbè non ti dico io tu hai già bruciato allora la toglia è una cosa cioè prendi lo spray per le veste allora c'è lo spray per le veste solo che la devi fare la mattina la mattina la mattina il balkon credo che sia solo per i ragni e gli scappi no no le formiche è quello il balkon ma solo che non dovete aprire niente a quel momento quando la fate la fate chiudete la fate o la mattina presto o la sera taldi basta non durante il giorno perché impazziscono e ti e sono in giro poi dopo eh sì infatti è meglio farlo la sera tardi poi si si scappa via o la sera tardi o diciamo quando sta tramonto il sole che si tornano a nero sono nere nere ma anche chi se ne ha presa l'importante che più presto la fai meglio è perché si aumentano di più eh sì sì infatti sono già lì e il fumo sai cosa è che gli fa il fumo gli fa un po' trogati per il momento c'è lo spray c'è lo spray eh esatto c'è un tubo c'è un tubicino che non c'è bisogno neanche che ti avvicini a due metri arriva arriva fino a due metri dai dai facciamo questo non lo facevo se lo spray non è arrivato verso le otto e mezza nove ci vai e glielo vai spruzzando ecco però di giorno no ci vai e lo fai ciao ciao ti saluto è così è così è un pugnettino è piccolo sono terrorizzata ovviamente di giorno no perché va finisce l'ospedale si è avvesato ecco ecco allora ora fai alle 6 di mattina Sonia io l'ho fatto su uno che lavoravo alle 6 di mattina mi è toccata andargli ho fatto alle 6 così perché erano ancora che non era uscito il sole e tutto oppure la fai alle 8 e mezza 9 di sera sì sì dipende ma non devi aprire più niente lì che entrare in casa anzi chiudo Dario direttamente fuori la Vespa amore al massimo la Vespa corre e vabbè arriva Veroneca sai che i miei sono allegici dalle api delle Vespe sia mio giro sia mio papà non ci credo che vai via eh dimmi dimmi sia mio giro sia mio papà nel momento che vedevano una Vespa o un'ape o li ammazzavano o andavano via perché se no erano in sciocana filatico ma in automatico non c'era verso vabbè il mio giro si è scambato con un seno certo sono pericolosissime perché chi è allergico agli eminotteri io no io no eh ma io no mi hanno dimmi ma il cadernino l'ha provato no Ilaria per fortuna le mie diciamo tutta la famiglia non siamo allergite perché li ha morsicati ma non è successo niente beh sì no io al limite mi viene un bel bagotto e basta finisce lì no un bagotto sì bagotto si dice in termini milanese visto che voi parlate un bel bagotto una bella coppa una bella coppa ma che è su bagotto il bagotto il bagotto il bollo il gibbollo ma che è il gibbollo il gibbollo il gibbollo il gibbollo il gibbollo il bagotto ma come cavolo parlate vi ciò dicevano un traduttore per fortuna che non parliamo in albanese Sonia se no era ancora peggio ora come si dice in albanese bagotto così è un gibbollo gibbollo è al contrario gibbollo è al contrario è un top è un top da noi è un top è sempre top che vuol dire tipo un pallone un pallone ecco io top conosco quello della cucina top top invece top da noi in albanese vuol dire il pallone Sonia così non lo siete santi è meglio abbiamo fatto la nostra i nostri cinque minuti di relax adesso lavorando sui comportamenti problemi sempre con me bravo cominciano definirli il più descrittamente possibili quindi il bambino Giacomino Giacobbello tira i capelli alla bambina Giacomina Giacobbella ecco questa perché Giacobbella pure è bello come il nome no perché potrebbe essere significativo il fatto che tira i capelli alla compagna di banco e non ai compagni di banco perché magari dei compagni di banco ha paura la compagna che ha i capelli più lunghi magari si possono trovare delle soluzioni tipo dire la compagna fatti una treccia così un tombolone il bambino Dario oggi dovrebbe ancora più volentieri praticamente gli staccherà della testa ok osservare bene quello che accade prima quindi l'antecedente se il bambino magari cerca la compagnia di questa bambina quindi magari si precisa il bambino durante l'intervallo cercava la compagnia di Giacomella Giacomella non guardava Giacomino e Giacomino gli ha tirato il cappello e si è seduto secondo me in queste case è importante quello che succede dopo ecco no prima dopo che è un po' una sua e praticamente la conseguenza è che Giacomella gli tira è sempre le conseguenze il problema non è il casino le conseguenze le conseguenze sono sempre quelle in questo caso è bella è bella devi parlare un po' giusto ecco il quale per la prima volta prende un cagio negli stenti ecco perché negli stenti nei zebedei si dice a Milano sapete cosa sono i zebedei? no vabbè meglio così sì 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 io no io damasco io damasco chi non lo sa chi non lo sa io damasco damasco dico ma io negli stenti chi non lo sa Alma Alma non lo sa e dove intendevi tu quella storia della stampelle delle ruote vabbè allora come si dicono in spagnolo le pelotas ho già capito ora meglio gli stenti io sono un maschio ho già capito quando la stampella non lo scontate ragazzi sono mezzanotte vabbè non c'è vietata il minorio l'hai già passata il tempo infatti sto cercando di vedere se Steven Shore ha bisogno di collegarsi oppure no ci ha bidonato proprio bisogna che non sa voglia lui avete visto che lo spagnolo lo so pure io no no è al comune guardate allora Steven ci colleghiamo stasera tutto ok ho inviato anche il link ma lui proprio non l'ha neanche guardato quindi evidentemente è impegnato avevamo una signora nel gruppo che diceva sempre io sono il spagnolo lo conosco tutto io ho sempre detto a Veronica non sono brava so capirlo ma non so parlarlo e lei si diceva sono bravissima io Paola te lo ricordo no non Paola l'altra aspetta lei diceva sapeva tutto Luisa che sapeva tutto poi la fine diceva te lo dici un po' in italiano giuro avevamo quella che ci vantava sapeva il spagnolo io le dicevo anche alla dottoressa guarda che hai detto sbagliato ma è che non sapevo bene poi mi arrangiavo lo spagnolo perché lì le lezioni erano più in spagnolo perché quella che faceva più domande non avendo il lavoro in quel periodo era era Soraya no e quindi io parlavo più volentieri in spagnolo perché lei mi faceva più domande ma non c'entravi che erano le persone che dicevano che sapeva il spagnolo e poi alla fine volevano italiano perché non capiva il spagnolo no in questo corso c'è un problema comunque no c'è un problema cioè perché per andare dietro cioè a che si parla in italiano a che si parla in spagnolo a che si parla in inglese si diventa rincoglionite proprio e ma perché noi studiamo per i pochi rincoglioniti così quindi dobbiamo farlo noi e poi aiutiamo gli altri questo non è pensato io ancora fino all'indomani sono così tipo per cercare di capire allora prima devi fare e poi ti impari ecco brava allora no la cosa importante comunque quando noi facciamo terapia e al di là del nostro ridere ovviamente è capire sempre cosa accade dopo quindi come diceva giustamente Sonia le conseguenze no di un comportamento così e quindi questa bambina vabbè potrebbe reagire male ovviamente come tutte le bambine che si vengono a tirare i capelli fare un po' di spagnolo è sparita è preoccupata Alma questa sbiene come mai è sparita? perché sono aspetta aspetta mandiamogli il messaggio Alma dove sei? ci manca dopo ovviamente gli diciamo basta Alma sei finita? ma quello ma doveva essere qua? ecco ma guarda che magari ti rimanda l'invito ecco chiamate chi l'ha visto magari la trova no basta andare a Misano c'era data qua vicino a casa oppure ditelo in tedesco perché manca solo il tedesco piccio ecco se volete posso anche quello ragazzi attenzione potrete arrivare io poco ne so tedesco ne so poco tedesco e francese sì per vostra cultura potremmo capitare anche questa disgrazia allora fare ipotesi sulla natura comunicativa nel comportamento problema ecco è molto importante prima di chiederci perché un bambino ha fatto quel comportamento qual è il suo livello di comunicazione quindi sempre capire se è un deficit nella comunicazione in ingresso in uscita per cui magari non ha capito che a quella bambina non gli piacevano le sue attenzioni doveva riporle su un'altra bambina magari o su nessuno e stare più tranquillo e quindi oppure semplicemente da quella bambina magari voleva un penarello rosso perché gli piace il colore rosso e voleva semplicemente il suo penarello se lui avesse saputo comunicare che voleva il penarello rosso avrebbe evitato di tirargli i cappelli e di ricevere un calcio lì ecco per fornire al bambino strategie comunicative quindi più adattative alla situazione sociale adesso ci abbiamo scherzato ovviamente però queste cose possono anche accadere quindi e quando accadono vi garantisco che sono problemi perché vi ho raccontato di un pazientino che appunto ho visto cos'era settimana scorsa e che appunto avendo il problema di essere molto racchitico poco cresciuto ancora per la sua età poco sviluppato si è fatto coinvolgere da altri compagnetti e questi compagni hanno preso a botte un bambino appena adottato arrivato dalla Polonia che non sapeva ancora comunicare in lingua italiana i genitori hanno denunciato questo non solo alla scuola ma anche alle autorità di competenza e questa questione è finita sul tribunale quindi una cosa che poteva limitarsi a una espulsione scolastica e poco più è finita un procedimento penale per maltrattamento su incapace perché comunque questo ragazzino ha una malattia che è l'autismo è in più polacco dotato autistico capite che tutte queste cose messe insieme hanno fatto sì che si rendesse ancora più difficile per questi genitori accettare che il bambino fosse stato picchiato a scuola e quindi non fosse stato protetto dagli insegnanti tutelato da questi compagnetti e tra questi bambini che venivano accusati di averlo picchiato c'era anche questo bambino che in realtà in un primo momento diceva anche di averlo picchiato anche lui per farsi vedere grande con i suoi amici e farsi vedere dalla sua parte quando ha capito che questa cosa lo metteva profondamente nei guai ha detto no veramente io devo essere sincero non ho fatto niente semplicemente ho lasciato che i miei compagni lo picchiassero e anche questo comunque ha penalmente delle conseguenze perché capite bene che è una complicità essere complici di un maltrattamento su una persona a cui provo che lesioni lesioni fisiche è comunque un reato ovvio che se il bambino avesse compiuto 14 anni si sarebbe fatto una valutazione sul disturbo di personalità eccetera eccetera e comunque alla fine abbiamo dovuto fare lo stesso perché il bambino comunque è stato comunque valutato ovviamente non è condannabile il processo penale dai diciamo dai 0 anni fino ai 13 anni vabbè questo è pena che a 0 anni un bambino non può fare nulla di ciò però fino a sotto i 14 anni non è penalmente perseguibile per legge quindi ha un'età che non gli permette proprio di per la nostra decisione insomma italiana della legge italiana di poterlo neanche processare per quel reato semplicemente fare un'indagine interna alla scuola cercando con psicologi e quant'altro di capire quali sono i problemi di quel bambino e aiutarlo a risolvere questi problemi in questo caso questo bambino era dislessico aveva grossi problemi di socializzazione a scuola pur di farsi accettare da questi compagni aveva mentito e aveva detto sì lo avevo picchiato anch'io poi non era vero in realtà lo avevano picchiato gli altri però sicuramente non l'aveva difeso e anzi adesso comunque so che ci gioca con questo bambino quindi per dire ha ben superato questa paura di opporsi ai coetanei più forti per paura di subire bullismo a sua volta ecco queste sono delle dinamiche interne alle scuole che sicuramente possono finire diciamo bene ma talvolta possono invece esasperarsi per esempio ci raccontava un nostro professore di un caso di un ragazzino chiamiamolo Giovanni insomma che per esempio per aver sentito un compagno fare degli apprezzamenti sulla sua cosiddetta fidanzatina per quello che potrebbe essere una fidanzatina a quell'età ecco è andato e come praticamente se facesse una crociata è andato a pestarlo ma praticamente a pestarlo quasi a morte lui da solo esatto e questo ha fatto sì che lui andasse in un pub lo raccontasse agli amici perché comunque era poco controllato dalla famiglia molto disadattato da quel punto di vista con un attaccamento disorganizzato e il fatto di averlo raccontato agli amici di averlo eseguito poi di essersene vantato insomma è stato facile poi andarlo a prendere e soprattutto avendo l'età in questo caso 14 anni compiuti valutare se appunto in base al suo comportamento valutare se era punibile per quel reato oppure no quindi anche queste valutazioni devono essere fatte in base al bambino un altro esempio che vi faccio è quel ragazzino obeso che invece per esempio ha mandato a una sua compagnetta che gli piaceva delle foto sulle sue parti intime questo è un paziente che io ho seguito per tantissimi anni per disturbi di iperfagia obesità e a un certo punto mi ricordo che in ambulatorio mi ha risposto male perché diceva che insomma salendo sulla bilancia non aveva perso peso come al solito perché io non gli avevo dato una dieta fatta bene insomma ed era colpa di ciò io gli ho detto no guarda veramente io la dieta te l'ho data e fatta bene se sei dimagrito fino adesso lo devi a me il fatto che non dimagrisci più dobbiamo capirlo e quindi siamo qua per questo l'obiettivo della visita è proprio questo e lì con la nonna mi ricordo che si è messo a un certo punto a piangere e non riuscivo a capire che cos'era successo la nonna mi ha detto guardi io non ne posso parlare perché è meglio che ne parli mia nuora insomma e anche perché non vorrei poi fare una cosa che non non mi è permessa e quindi poi è arrivata la mamma mi ha spiegato appunto di questo problema e di questa necessità dell'avvocato di avere un perito che valutasse questo ragazzo quindi l'ho fatto io perché eravamo in mezzo stavamo iniziando il covid era proprio in quel periodo lì insomma tra febbraio e marzo quando nel 2020 iniziava il covid quindi tutti i centri incominciavano a chiudersi gli ospedali e sto ragazzino era in mezzo di sto casino col padre che poi nel frattempo è stato arrestato per pedopornografia e per cui è stato messo in carcere ed arrestato tra l'altro in ambito lavorativo quindi posso dire che una bravata di un ragazzino che sembrava una roba così stupida che 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 situazione è arrivata ecco a un arresto del padre perché lui aveva utilizzato il computer del padre per mandare queste immagini e per cui gli inquirenti non si erano neanche posti il problema che fosse il figlio e il ragazzino se ne era stato muto fino a quel giorno lì quel giorno lì ha raccontato alla nonna che in realtà era stato lui quindi vi posso immaginare la tragedia familiare che potete immaginare la tragedia familiare che stava vivendo quella famiglia perché erano in attesa di giudizio con il padre in carcere sto ragazzino che continuava a dire bugie e che proprio quel giorno lì perché io l'ho rimproverato a un certo punto mi ho detto no guarda che non è colpa mia se tu non dimagrisci evidentemente siamo qui per questo per capire come mai visto che sei dimagrito fino adesso e se impari a comportarti a modo sono qua per aiutarti se no per quanto mi riguarda puoi anche uscire dall'ambulatorio perché insomma non è che mi faccio trattare male da un ragazzino della tua età di 13 anni perché hai fatti di questa cosa lui aveva 13 anni ma poi compie 14 no nel frattempo e quindi vi spiego questa cosa il ragazzino capisce che ormai è alle strette la nonna lo guarda male come dire ma che figura mi hai fatto fare e allora sente la necessità di ammettere il guaglio che ha combinato e la nonna però ovviamente di fronte a questa confessione non sa come reagire quindi dice adesso ti rimanderò dalla dottoressa con tua madre e così gli racconti le cose come stanno e così è stato ho dovuto fare il quaziente intellettivo la WISH e poi ho dovuto fargli la RAVEN quindi dei quazienti intellettivi sia visospaziali che di performance e verbali e poi gli ho fatto un frontal assessment battery una valutazione sulle eventuali lesioni frontali o difficoltà sulle funzioni esecutive quindi a inibire e controllare le emozioni perché questo ragazzino appunto aveva tra i 13-14 anni quell'età in cui ancora il lobo frontale come vi dicevo l'altro giorno non si è ancora sviluppato per cui la capacità di vivere perché ancora la possedete e svilupparlo bello certo certo questa lezione gli sarà servita sicuramente tant'è vero che nel momento in cui è stata fatta diagnosi di un deficit anche nell'attenzione perché lui non li conosceva proprio anche degli elementi logici base delle immagini l'impronta per esempio sulla neve non li vedeva non vedeva certi particolari delle schede che dimostravo della wish e quindi aveva un deficit proprio anche sulle capacità di connessione logica quindi degli interneuroni che vanno a collegarsi con le aree occipitali della corteccia visiva e questo ci ha permesso di fare una diagnosi non solo di obesità di disturbo alimentare il comportamento alimentare ma anche una diagnosi di disturbo dell'alimentazione incontrollata con anche una iper sessualità in questo ragazzino che evidentemente aveva incominciato a comprendere la sessualità ma nessuno lo stava guidando lo stava seguendo proprio perché in quel momento tra l'altro il padre viene arrestato e quindi nessuno se ne preoccupa lui poi continua a mentire e non dice che è stato lui meno male che in quell'occasione io l'avevo rimproverato insomma e questo ragazzino ha pensato di dire la verità alla nonna perché veramente sono riuscita a togliergli a toglierlo da questa situazione che poteva diventare ben più grave se non si fosse chiarita ecco per quanto riguarda le cause comuni di iperfagia quindi abbiamo pulenia c'è il diabete il diabete sono quella smania di dolce proprio in persone che hanno la glicemia a palla sta abitando adesso in mia madre e quindi è difficile soprattutto quando c'è un esordio di diabete riuscire a fare a prendere a quella persona che il gelato basta non lo può mangiare e magari lo può mangiare solo quando glielo porto io una volta al mese così lo vede proprio come un premio il fatto che è stata brava e non l'ha mangiato fino ad allora disturbo ad alimentazione incontrollata anche questo era tipico di questo ragazzino aveva proprio queste abbuffate e l'ipertiroidismo a volte è correlato questo bambino era stato molto indagato per sindrome di Kleinefelter e anche per problemi alla tiroide che poi di fatto non si sono mai slatentizzati comunque non per un momento anche se in realtà qualche valore un po' anomalo non di ipertiroidismo ma si chiama proprio di iperpituritarismo ce l'aveva avuto quindi ormoni della tiroide e anche non della tiroide che comunque cominciavano un po' a sballarsi e questo poi faceva pensare anche a un problema sulla sessualità appunto sulla produzione di testosterone eccetera per cui insomma abbiamo fatto indagini anche in ambito endocrinologico perché in quel momento poi io lavoravo proprio nell'ambito endocrinologico con un ambulatore apposito quindi anche in questo caso dobbiamo escludere una sindrome tipo la sindrome di Prader-Willi che sono molto grassi hanno anche le gambe divaricate faccioni e luna molto particolari dalla Kleinefelter che invece hanno un viso allungato sono molto alti longilini e tendono anche loro avere l'addome molto pronunciato e la ginecomastia quindi anche il seno è proprio come diandola quindi con uno sviluppo dei genitali maschili molto ridotta per cui questo ipogonadismo fa sì che questi soggetti sono molto complessati e spesso sono poco fertili quindi fino a 20 25 anni è l'età fertile dopodiché basta non producono più spermatozoi e questo inficia moltissimo nella qualità della loro vita perché ovviamente va a determinare problemi nelle relazioni con i coetane maschi eccetera sindrome metabolica la sindrome metabolica è quella che conosciamo molto bene dal diabete dal fegato ingrossato sono soggetti che magari bevono quindi insomma hanno una vita non molto regolare e quindi tendono a diventare grassi proprio per questo motivo sindrome premestruale è quella che noi donne chiamiamo è la settimana no insomma no quella settimana in cui vorremmo non andare al lavoro non andare a scuola non andare in gita non andare al mare proprio perché siamo male insomma e poi dipende sempre dalla durata delle mesturazioni quando se durano 3-4 giorni quando se durano una settimana 10 giorni cause rare invece sono l'ansia la depressione maggiore la depressione postpartum la distimia la triposonomia africana vabbè il tumore al pancreas ovviamente bisogna anche fare diagnosi differenziale quindi mai pensare che un disturbo comportamentale alimentare sia solo esclusivamente dettato da un problema di bulimia o di anoressia perché è stato l'errore che hanno commesso dei miei colleghi a San Paolo quando io ero ancora specializzanda e mi ricordo che appena vedi una ragazzina e una collega mi chiese se potevo aiutarla nella visita perché lei non era ancora molto pratica la aiutai più per aiutare questa collega insomma non tanto per seguire questi casi che insomma io ero già su malattie più rare che su queste patologie e niente mi ricordo che notai subito appena si spogliò la peluria era come un maschio dietro ma anche il peggio cioè voglio dire i giovani maschi che non hanno tutti quei pedi sulla schiena come una scimmia e allora la guardai e gli disse ma hai visto le ipertricosi che ha dobbiamo fare degli esami assolutamente endocrinologici mirati per studiare queste ipertricosi beh ve la faccio breve era una ragazzina seguita da questo centro di neuropsichiatria infantile di Milano da 4 anni e mezzo 5 quindi non da ieri e dal giorno prima e che era stata sempre inquadrata come polemica e invece purtroppo aveva un tumore al pancreas che da lì a poco ha portato al decesso io ricordo ancora il dottor Garzia Manuel Garzia che era veramente molto bravo un endocrinologo ginecologo molto bravo che quando le portai questa ragazza giù da fare l'ecografia appena mise l'ecografo sull'addome vide tutte le metastasi io spalancai e sgranai gli occhi perché avevo capito subito che era in metastasi e lui mi fece cenno con grande gentilezza devo dire di andare pure in reparto che ci avrebbe pensato lui a fare verbale e tutto il resto perché quella roba gli sarebbe finita in tribunale ovviamente e io non ero ancora così avanti da poter stare ovviamente in giudizio in tribunale per una causa così pesante ecco e quindi poi l'esperienza ti insegna che queste cose ti devi fare la preparazione la formazione gli studi appositi per poter anche occuparti di malpratica medica che purtroppo esiste perché in questo caso è stata una gravissima malpratica medica l'hanno inquadrata come bulemica e nessuno gli ha fatto fare una visita endocrinologica questa ragazzina se quattro anni prima faceva una visita endocrinologica forse lo trovavano al primo stadio del tumore e può essere sì può essere no che non era nel pancreas speriamo perché poi quelli che sono nel pancreas naccono nel pancreas è difficile che regrediscano e quindi si risolvano però se è durato quattro anni veramente verosimilmente quella del pancreas era un secondarismo quindi la lesione primaria arrivava da qualche altra parte o dal cervello si pensa o dal fegato normalmente oppure dato all'ipertricosi può essere proprio dalla tiroide però ormai lì non si poteva più capire dove era la lesione primaria per quanto era conciata sta ragazzina quindi mi spiace dirlo ma i colleghi hanno seguito per tantissimo tempo una ragazza quindi sono stati coinvolti tutti tutti quelli che l'hanno seguita in quei quattro anni sono stati hanno ricevuto la lettera di come dire malpratica medica e di causa in giudizio per danno grave a persona fino alla morte insomma ecco abbiamo anche l'ipofagia quindi l'anoressia primaria con o senza menorrea adesso si dice anche senza menorrea si può fare diagnosi di anoressia basta che la ragazza dimostri di non mangiare a sufficienza quindi almeno mille calorie nell'arco degli ultimi sei mesi io vi posso garantire che di ragazze così ne conosco io le attiro come una calamita praticamente sono tutte mie quando sono in giro e purtroppo spesso alla base hanno già una depressione maggiore associata per cui arrivano a stadi veramente avanzati anche perché queste ragazzine quando incominciano a chiedere aiuto è già tardi e spesso le famiglie ignorano questo dimagrimento fino all'estremo proprio perché non vogliono accettare la realtà cioè che il figlio è autistica vi ho detto anche figlio perché in realtà mi sono capitati anche casi nei maschi e anche i bambini molto piccoli bambini di due anni che anoressici che si rifiutavano di mangiare proprio perché avevano una depressione dovuta dal fatto che la madre era incurante nei loro confronti per cui su un disturbo dell'attaccamento molto grave per cui il bambino aveva quell'atteggiamento evitante o disorganizzato che faceva sì che faceva credere alla mamma di non aver bisogno di mangiare di non aver la necessità di essere nutrito e anzi di voler lui rifiutare il nutrimento finché poi dopo non abbiamo ricoverato il bambino la mamma ha fatto fare la terapia e in questo caso è stata una terapia proprio sulla relazione tra madre e bambino per cui si è fatto notare alla mamma di imparare a riconoscere le emozioni di quel bambino anche se evitante a suo modo comunque manifestava le emozioni in maniera diversa ecco abbiamo anche casi di schizofrenia con ipofagia che mangiano poco o disturbo bipolare allora la schizofrenia è una malattia che poi se avrete voglia faremo anche una lezione proprio sui disturbi di personalità approfondiremo in quell'occasione comunque è una psicosi di fatto è una psicosi che assume uno stato che parte da un tratto schizotipico di immaginazione fervida molto fervida molto viva capacità di immaginarsi in un altro mondo di immaginarsi in un'altra situazione in un'altra famiglia addirittura proprio per fuggire della propria maltrattante abusante e fino a voler il padre della compagna e magari pensare di ammazzare la compagna e meditare su questi pensieri fino all'ossessione la schizofrenia però ci sono anche forme lievi cioè non ci sono solo forme che portano all'omicidio al suicidio ma ci sono anche forme molto lievi che magari nascono anche con delle paranoie tutti mi osservano tutti mi vogliono fare del male tutti mi aggrediscono tutti mi insultano con queste piccole paranoie che però diventano sempre più importanti fino a scompensare a far diventare la persona affetta da schizofrenia paranoide o schizofrenia affettiva paranoide dove sono solo i componenti della famiglia che ce l'hanno con te e che ti hanno puntato male e che ti vogliono distruggere la vita ecco che allora in questi casi di schizofrenia è molto importante lavorare sull'affettività sulla relazione quindi far comprendere alla persona appunto il mezzo sorrisino che non è un disprezzo ma è un modo di non voler deridere la persona piuttosto che quindi di provare disgusto un mezzo sorrisino no però a volte può essere che una persona fa un mezzo sorrisino e la persona lo intende paranoico sto dicendo è manierismo perché è manierismo alla volta è manierismo io lo strozzo Dario su questa questione perché non vuole ascoltare allora se io faccio così ok tu puoi capirla come sta sorridendo oppure è scocciata un paranoico pensa che ti sto disprezzando ah ma invece così è proprio disprezzato ho capito ma io sto dicendo è paranoico non te no certo sto dicendo un paranoico un paranoico malinterpreta e tu sorridi dice un'espressione certo questo è al contrario così è un autistico mi capisco che non sa riconoscere magari la tristezza dalla rabbia è al contrario la terrenizzata una persona che fa così prova a far la rabbia perché tu la fai bene la rabbia? sì no devi no devi farla bene in condivisione dello schermo aspetta ok ma mi vedono eh ti vedono ah no no se ti vedono boh ma allora fai vedere o così beh quella quella è più evidente se no anche quella quella urlante la rabbia urlante urlante ecco e invece quella trattenuta quella trattenuta non urlante ecco però questa rabbia no trattenuta più trattenuta questa rabbia trattenuta è leggermente trattenuta quella che fa anche Adelina nel video ah una persona stringe leggermente gli occhi ecco e protende un po' il mente in avanti esatto è una rabbia trattenuta questa potrebbe essere ecco ma questa già questa rabbia trattenuta potrebbe essere eh non riconosciuta da un autistico come Andres per esempio che lui la interpretava sempre come tristezza ok la confondeva tantissimo e confondere la rabbia con la tristezza la tristezza con la rabbia guardate che è molto pericoloso per un soggetto eh quindi eh questo può renderlo molto agressivo impara bene le emozioni almeno le capisce razionalmente istintivamente se tu ridi dice le micro espressioni le micro ma anche le espressioni se tu ridi e solitamente direbbe quella persona sta provando disprezzo invece no stai ridendo eh istantaneamente magari pensa quella persona prova disprezzo no? sì ma anch'io ho fatto più volte l'esercizio bagliando però dopo quando lo capisce bene almeno razionalmente dopo mezzo secondo la sua interpretazione cambia e anche uno schizofrenico dice no ma allora mi sto sbagliando perché razionalmente riesce a capire tutti i segni i veri segni dell'emozione si deve allenare ovviamente certo ecco il disturbo bipolare invece è quel disturbo che passa dalla fase maniacale alla fase depressiva anche questa la studieremo meglio però già ve l'accenno è un disturbo molto particolare io ho avuto un'attività paziente lo raccontavo ad Ari un po' di tempo fa e forse l'ho raccontato anche ad Ari ma non mi ricordo di una paziente veramente particolarissima questa arrivava in ambulatorio così tutta con le pagette non so come spiegarvi i vestitini quelli super lustrosi no? che sembrava veramente una bambola super toccata super tutta egocentrica con abiti super colorati e via dicendo e poi altre volte invece la trovavo magari nel giardino dell'ospedale straiata sulla panchina come se fosse una 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 vagabonda incurante di lavarsi di pulirsi di cambiarsi tutta sporca e poi ovviamente la ricoveravano perché era in fase depressiva quindi questa signora qui io ci avevo parlato spesso e mi ricordo che a un certo punto mi aveva detto che lei come dire aveva una figlia che sperava non fosse affetta dalla sua stessa malattia allora io essendo una studente a quei tempi di medicina mi ero affetta per fare una valutazione a sua figlia e nel fare un test di valutazione a sua figlia in realtà mi ero resa conto che anche la figlia aveva dei tratti non bipolari ma di diclottimia quindi molto sfumati molto sfumati diciamo però aveva proprio una diclottimia per cui aveva degli sbalzi di umore già nella giornata molto frequenti sono quelle persone che per dire alla mattina si sdegliano già con la luna storta e verso mezzogiorno dicono che stanno già meglio no? Ecco però nel pomeriggio magari sono abbastanza allegre poi verso sera si rincupiscono ecco che subiscono molto l'influenza anche del tempo se il tempo è brutto hanno un pessimo umore se il tempo è bello paradossalmente sono particolarmente allegre e via dicendo quando il tempo è variabile quando il tempo è variabile questa diclottimia è più pericolosa perché è più imprevedibile quindi col sole è stato maniatale tendeva ad essere stato maniatale perché era molto si diceva si definiva meteopatica no? e il disturbo poi schizoaffettivo è quello che vi dicevo prima è un disturbo che arriva alla schizofrenia è un disturbo che può creare grossi problemi nei membri della famiglia perché sono le madri schizoaffettive hanno un'incapacità di sviluppare un attaccamento sano e creano figli molto disorganizzati borderline quindi ecco il disturbo borderline e quello schizoaffettivo spesso si ritrovano negli stessi membri della famiglia vi dirò di casi familiari che ormai ho visto nella mia esperienza ormai di quasi 17 18 aiuto ho quasi 20 anni il prossimo anno faccio 20 anni aiuto e comunque che mi hanno segnata molto nel senso che queste famiglie mi hanno proprio mostrato come loro facevano fatica a vivere la normalità perché una figlia era borderline la madre era borderline la cugina era schizoaffettiva l'altro ero schizofrenico un altro cugino era ricoverato in ospedale l'altro era fuori ma comunque peggio che andare di notte pieno di droga e di cocaina non pensavano prima di aprirsi un manicomio ecco sì però purtroppo queste famiglie non sono così rare come ci piace immaginare ecco perché in realtà se andiamo andiamo a cercare bene 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 un po' in tutte le famiglie potremmo trovare quel nucleo ci sono ci sono sopra carco di lavatoviglie lavatrici e un po' di calvini per risolverlo l'importante è che ascolti un disturbo un po' particolare antipatico anche difficile da capire è il disturbo bipolare ma non quello di tipo 1 dove come dicevi prima tu una persona è molto eccentrica e si vede subito diciamo non è poi molto deprezzo il disturbo bipolare di tipo 2 è molto più difficile da individuare la persona è leggermente depressa poi leggermente maniacale eccentrica questi disturbi sono anche molto familiari come dicevi tu a proposito della familiarità e le famiglie sono molto contagiate da questi disturbi cioè in una famiglia ci sono molte persone magari se c'è una persona ce ne sono anche altre potrebbero essercene anche altre con il disturbo bipolare di tipo 2 ed è il disturbo che maggiormente porta le persone al suicidio ed è il più difficile da individuare attenzione inoltre è difficilmente diagnosticabile infatti questa figlia di questa signora bipolare è molto preoccupata per la figlia a proposito della familiarità inoltre i familiari non lo capiscono affatto per la persona che il proprio fratello sorella madre padre cugino sono affetti dal bipolare di tipo 2 perché lo considerano il carattere della persona invece non è così e gli altri lo copiano addirittura è lunatico la persona è un po' lunatico un po' lunatico è il suo carattere guarda c'è il suo cugino che è simile niente ci sovegliamo pure invece è pericolosissimo tutto normale perché c'è anche nella famiglia ecco questa classificazione sui disturbi di personalità è stata presa dal DSM quarto di fatto il DSM 5 la stravolge però tutti i psichiatri tutti i neuropsichiatri tutti i neurocomportamentalisti e anche ho avuto modo di apprendere i psicologi forensi lo ritengono ancora più credibile insomma quindi si basano ancora su questa classificazione se devono fare una valutazione su un disturbo di personalità come diagnosi da DSM 5 prendono esempio da questo schema del DSM quarto e poi lo traducono in parole anche perché spesso e volentieri al psicoterapeuta è chiesto di fare una diagnosi con l'obiettivo di fare una terapia ma a una pediatra un psicologo forense un neuropsichiatra forense non viene chiesto di fare una diagnosi né tantomeno una terapia ma di fare un inquadramento diagnostico un profilo questo si chiama profiling un profilo della personalità di quell'individuo per capire quali sono state le motivazioni che hanno scatenato quel crimine quel reato e che hanno portato ad essere arrestato per esempio ecco che allora è importante parlarsi in linguaggio comune siccome vi potrebbe capitare sia da mamme che frequentate altre mamme che hanno problemi e quindi che magari vi raccontano anche della loro vita e vi dicono io ho un disturbo borderline io ho un disturbo e voi di per lì non riuscite a capire che cosa intendano ecco che capire che cosa intendano è importante perché certi disturbi come diceva anche prima Dario si riflettono nella famiglia e quindi sapere che il cluster A è un disturbo paranoide schizzoide schizotipico antisociale narcisistico ossessivo compulsivo è una classificazione importante perché come vedete io prima ho parlato di schizofrenia paranoide ma ci sono anche delle persone che sono solo paranoiche hanno solo la paranoia ok che tutti ce l'abbiano con loro ma sotto certi altri aspetti sul campo della realtà sono perfettamente inseriti questi sono quelli che più tendenzialmente più che suicidarsi uccidono ok io non tanto sono paranoica quindi su a me si deve spaventare no da scantare tu e mia cosa devi essere aiuto ma non era bipolare oddio non ci capisco più niente no allora Mariana è un po' un misto fritto un misto fritto chi la capisce è brava ecco allora faremo un'attenta valutazione no non può valutare seriamente lo schizofrenia invece è quello che veniva una volta classificato come il soggetto che tende a stare molto solo a sociale che si relaziona poco o niente con le altre persone perché non ne ha interesse o comunque è cresciuto in maniera proprio poco affettiva no con una un disturbo sull'attaccamento molto forte quindi tende a essere molto evitante che tipo di attaccamento è attaccamento evitante oppure stile evitante sì sì stile evitante sicuramente non ambivalente e neanche sicuro piuttosto insicuro per cui magari tende proprio a fuggire dalle relazioni schizotipico invece quello che vi dicevo prima quei ragazzini che fuggono dalla propria realtà e sognano di avere un'altra famiglia oppure osservano le vite degli altri e fantasticano su un'altra vita antisociale che abbiamo visto tanti serial killer iniziavano proprio così con queste fantasie vogliarismo però disturbo antisociale invece caratteristico di quelle persone che frequentano cattive compagnie che incominciano ad andare nella scuola che incominciano a appunto avere un'aggressività verso i propri compagni coetani e tendono a non rispettare le regole no ma non perché non le comprendono perché proprio non le vogliono accettare non le vogliono internalizzare e questo spesso si contrasta anche con un disturbo narcisistico diciamo che alcuni di questi disturbi se sono solo tratti di personalità ok i caratteristiche della personalità in realtà non sono così disfunzionali ognuno c'è il suo tratto perché normalmente quasi tutti i medici e avvocati sono narcisisti per eccellenza hanno un tratto narcisistico che però gli permette di stare nel mondo del lavoro di avere le relazioni la propria famiglia eccetera senza diventare mai un disturbo il disturbo narcisistico è tale quando o è un disturbo narcisistico benigno che va all'estremo per cui hanno questa vania della bellezza per cui non so si fanno buttolinano dappertutto si diventano maschere di plastica come dice Dario oppure un disturbo maligno per cui narcisistico per cui se quella non so persona non mi dà attenzione io piuttosto che non averla la uccido no? ecco perché lei deve stare con me solo con me e non può vivere senza di me dunque gli uomini che arrivano a uccidere la propria compagna dopo magari una vita che ci sono stati insieme come se fosse una bambola no? niente ecco questo è il disturbo narcisistico la persona che vede solo se stesso ama solo se stesso e ama gli altri in funzione del fatto che lui si sente importante nel momento in cui per quella persona tu non sei più importante ecco che allora io ti faccio fuori capito? ecco disturbo ossessivo oppure ti butto l'acido come è successo in quei casi terribili a Milano disturbo ossessivo poi compulsivo invece sono quei ragazzini ragazzine che hanno l'ossessione di mettere sempre le cose in quella posizione le scarpe ma perché hanno anche mamme così ossessive e compulsive che li crescono in questo modo quindi mio marito mio marito no non si ci può vivere no raga non si può vivere ma è già il mio marito è fissato con le ragnatelle se trovi un ragnatello in casa è un incubo ecco ti giuro Jimmy se vede una ragnatella fuori dentro è un incubo e se la vede non mi raga è fissato veramente con le ragnatelle ecco allora è un'ossessione compulsiva ma cosa fa dopo? è un'ossessione quello eh ti giuro qualche volta eh cosa fa cosa fa le va a ammazzare o va a togliere le toglie no no va a prendere subito il pusco e le chiamo io e va subito a toglierli oppure litiga con me e quanto tempo è che non mi togli ma se li hai tolti te l'altro giorno no 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 un incubo no quando devo trovare una soluzione mio marito è peggio allora io sono seduta a mangiare io sono seduta ancora a mangiare lui si muove per mangiare si va a fare i piatti si pulisce la cucina no è malattimia antichisso si va si va a fare allora lo faccio anche che si aspetta con l'aspirapolvere mi aspetta con l'aspirapolvere giù nel magazzino aspetta che l'assessione sarebbe se pulisse sempre lo stesso piatto giusto più volte allora noi parliamo di disturbo ossessivo compulsivo quando vi faccio un esempio mia mamma c'è arrivata purtroppo devo dire che mia mamma Marisa questo disturbo ce l'ha e è però che cosa è successo che praticamente lei non riusciva più ad andare al lavoro ok perché era così ossessionata da non aver chiuso bene la porta di casa che continuava a tornare su a controllare la porta finché poi incaricava me che non c'entrava un'h e mi diceva Veronica dimmi se poi l'ho chiusa perché appena scendo te lo chiedo era stata una strategia che aveva trovato evidentemente lo psicologo per risolvergli sto problema perché se no lei non andava più al lavoro perché continuava a tornare su a controllare la porta per cui se io non c'ero era così finché poi mio padre se ne ha accorto e l'ha mandata dritta spedita a farsi curare e abbiamo trovato delle strategie per compensare questo suo disturbo ossessivo compulsivo ma lei è anche compulsiva nella pulizia nell'igiene un po' come diceva Sonia cioè mia madre veramente puoi mangiare anche sul balcone per terra tanto lo pulisce cioè ci sono le piastrelle che ormai si sono sbiancate erano marroni li ha fatti diventare pesci ho capito ecco una volta mio marito ho la macchina io nuova e tu sei raccosto di una gocciolina d'acqua nella direzione del radiatore la notte si alzava più di una volta per vedere la gocciolina perciò ti c'è sparare la dottoressa ti sta facendo capire portalo a farsi curare no per me se ne può andare il radiatore perde perde acqua è bucato però c'era una gocciolina quindi se c'era sempre una gocciolina magari era la condensa del radiatore io lo dico io apriva apriva il cofano della macchina apriva il tappo dove c'è l'acqua conciolava l'acqua l'aspirava un meccanico remuratura un meccanico e che lavoro fa? cos'è che diventa meccanico? ha un'impresa edile ecco quindi non c'entra però è la stessa cosa che io da cuoco divento medico ecco all'ossessione sia pura ha voglia di cercare le malattie è vero allora nel gruppo B nel cluster B invece abbiamo quei disturbi che noi definiamo diciamo più correlati alla relazione sociale quindi nel cluster A nel gruppo A sono disturbi della persona ok? disturbi di personalità che riguardano il soggetto e il suo modo modo di apportarsi di relazionarsi con l'ambiente esterno quindi abbiamo il paranoico lo schizzoide lo schizzo tipico l'antisociale invece nel cluster B abbiamo il disturbi non in grado di relazionarsi con la società quindi che hanno difficoltà a stare in società e questi sono i disturbi borderline borderline cosa vuol dire qui vi raccomando di vedere un film che è ragazze interrotte dove vedete un po' tutti questi disturbi in realtà e avete così un po' un modo di ragionare su questi disturbi di personalità che poi spesso portano questi soggetti anche al ricovero in reparti di psichiatria quindi stiamo parlando comunque di disturbi molto gravi dove ovviamente nel borderline le ragazzine tentano il suicidio varie volte spesso hanno combinato un'anoressia quindi qui si comincia a parlare poi di disturbi multipli di personalità e l'istrionico io ho avuto dei professori istrionici per carità bravissimi dal punto di vista professionale dal punto di vista personale persone molto particolari molto di umori molto altalenanti molto poco stabili per cui veramente avevamo il terrore di andare all'esame perché poteva andarci bene come malissimo capito e avere di fronte queste persone però ti fa capire come l'istrionico è un attore che recita no che recita una parte io ho avuto un professore appunto tedesco Hans Spille che mi ha insegnato la neurologia praticamente in lingua quasi tedesca perché mi seguiva il reparto e poi non solo ci teneva tantissimo a parlare il tedesco su tutto e su tutto e il fatto che io sapessi il tedesco lo vogliavo ancora di più insegnarmi ma la cosa incredibile è che lui mimava tutte le patologie io come faceva non lo so perché io non lo saprei fare però lui tutti i tipi di spasmi di stonie piuttosto che di Parkinson o altre malattie lui ce le mimava in classe al punto che io mi ricordo che facevamo un esame di neurologia il quarto anno e c'erano tutti gli studenti del primo secondo terzo fino al quinto anno sesto anno di medicina che arrivavano a riascoltare le lezioni del professor Spiller più volte perché erano sempre ammagliati dalla non riuscivano a capire il fenomeno no ma erano incantati dalla sua recita idem il professore di medicina legale forse per questo che mi sono molto innamorata di queste materie anche se poi sono ho deciso di fare la pediatra perché mi piaceva tutto della medicina all'internistica però sinceramente questi professori penso che mi abbiano segnato molto perché erano di una bravura eccellente sì di una bravura eccellente eccellevano nel ma si diceva in inglese impressive impressive sì erano impressionanti cioè ti lasciavano aspettila che adesso mi confondi e tra un po' parlo in inglese lasciavano un segno ti lasciavano veramente sconvolto dalla loro capacità di mimare magari un omicidio il pensiero di un assassino e di farti vedere la scena di un crimine no? e quindi sembrava di essere lì a vederla la scena e non di essere in un'aula così quindi ti trasposizionavano in un certo quel modo nel loro mondo ecco questi sono i soggetti strionici no? che hanno una grande capacità oratoriale e grande capacità di cambiare anche tonalità di voci medesimazione eccetera e hanno del potenziale poi su alcune materie poi nella loro vita sociale cadono tantissimo perché magari non si sono mai sposati non hanno mai avuto una moglie o una relazione non sono stabili di umore di carattere sono appunto strionici perché hanno queste sparate anche nella loro vita quotidiana che difficilmente una donna o un uomo o sano di me interesse a stare a fianco no? perché influiscono molto nell'ambito sociale quindi o trovano un lavoro adatto alla loro personalità al loro disturbo e spesso i borderline sono giornalisti gli strionici sono professori appunto cattedrati è come dire a osare per quanto riguarda il lato questo un po' più sessuale da quel punto di vista lì gli strionici cosano un po' questo però tendenzialmente le ricerche si 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 e poi sono anche l'avvenenza prodotemporale sono completamente disinibili fuori controllo disinibili possono diventare anche violentatori molto certo molto abusanti e spesso e volentieri magari permettetemi anche il termine c'è stata tanta confusione tra il disturbo istrionico di questi soggetti che si travestono amano trasvestirsi anche in maniera molto teatrale vanno a teatro fanno la parte della donna piuttosto che dell'uomo se sono donne e viceversa e i transgender e quindi spesso e volentieri anche i transgender sono stati mal interpretati proprio perché c'erano questi istrionici che in qualche modo gli spiazzavano un po' il palcoscenico esattamente questi magari non erano per niente transgender però ovviamente con la loro barba la loro voce femminile il loro modo di recitare erano anche più attrattivi ecco e poi abbiamo il disturbo invece dipendente quello dipendente è quello totalmente con un attaccamento completamente abbiamo detto ieri insicuro per cui il bambino continua a essere ambivalente a dipendere dalla mamma essere molto attaccato anche nelle relazioni affettive hanno questo atteggiamento di attaccamento resistente di chi non riesce a non staccarsi dalla gonna della mamma quando sono piccoli e poi quando sono grandi magari a non essere autonomo dal marito dalla moglie il disturbo evitante invece è quello che è un attaccamento parte da un attaccamento evitante è quel soggetto che sembra dire oh ma io sono bravo solo io sono capace solo io non ho bisogno di nessuno però non è vero perché tutti abbiamo bisogno di tutti di stare anche con gli altri tutti forse no però di stare con gli altri sicuramente in una certa qual misura in modo differente tutti comunque abbiamo bisogno di essere supportati e il disturbo evitante invece no piuttosto che evitare di attaccarsi e soffrire evita ancora prima di affezionarsi alla persona no e pertanto tiene un distacco emotivo molto forte che poi lo apprende da bambino evitando le attenzioni della madre facendosi vedere superiore nella relazione con la madre e poi successivamente lo riporta anche nella relazione di coppia e il disturbo evitante è quel soggetto che evita qualunque tipo di relazione di confidenza di entrare in diciamo così in sintonia con gli altri proprio perché tende a non fidarsi di nessuno ma senza diventare per questo paranoico è un tratto generalmente di personalità che solo quando diventa disturbo evitante diventa importante un disturbo evitante che adesso mi viene in mente per esempio è un po' quello del per farvi un esempio proprio dei cartoni animati di Charlie Brown no dove c'è questa mafalda che lo ama lo vuole lo cerca questa è una dipendente mafalda affettiva e Charlie Brown è un evitante anche B.B.P. del coiore sì però ha ragione perché io lo leggevo tanto da piccolina in quel caso è più ragionevole esatto e niente nei disturbi di personalità abbiamo detto quindi abbiamo questo cluster A che sono appunto paranoidi schizzoide schizotipico antisociale ma poi abbiamo il cluster B che sono il borderline all'istrionico tra il cluster A abbiamo anche il narcisista e l'ossessivo compulsivo mentre levitate il dipendente sono sempre del cluster B ecco che allora è molto importante capire poi in base alla nostra analisi A B C Environment Behavior Consequence dove si posiziona la soggetto la soggetto che stiamo studiando per esempio Sonia sta studiando suo marito in questo momento Alma sta studiando Jimmy Mariana sta studiando se stessa però nei sogni dice gli dice che è bipolar gli dice poi che è paranoica quindi si sta domandando ma io dove sono qui dentro e quindi allora dobbiamo valutare un po' quello che è l'antecedente della situazione in cui noi viviamo siccome noi siamo analisti comportamentali di fatto ci sono scuole di pensiero dell'analisi comportamentale che dicono per carità disturbi di personalità noi li ignoriamo non ne vogliamo sapere niente a noi di quello che sta sotto l'inconscio non ce ne frega niente se sei ignorante e vuoi rimanere tale per carità va bene così però è anche vero che la scienza si evolve le tecniche per apprendere quando veramente una persona è stata di coscienza in coscienza adesso li abbiamo e sappiamo che nella fase pre-sonno e post-sonno ci sono degli stati di semi-incoscienza di semi-coscienza più o meno attivi in base alla lausala che possiamo registrare nel soggetto e quindi se noi induciamo una persona in quello stato con l'ipnosi possiamo chiaramente comprendere qual è il suo stato emotivo prevalente anche semplicemente registrando la sua voce mentre parla adesso per esempio vi faccio un esercizio Dario fai partire il vocal tune vocal tone nel mio cellulare per esempio no il vocal tone sul computer questo lo usi sempre su questo ah quello l'analyzer l'ultimo che ho cioè tu lo stai già registrando il loro vocal tone allora facciamo un esercizio cioè guardate che Dario è tremendo vi sta studiando sempre più birichino lui allora dimmi adesso che Alma ha parlato è interessante pure io allora dimmi adesso che Alma ha parlato che frequenza vocale lo stavo guardando Alma parla di nuovo no deve essere spontanea poi sempre più birichino Dario allora eh no deve parlare devi parlare per almeno un po' devi parlare come se è che ti serve cominciamo a raccontare le favole così mi prendi tutto adesso sei una piaccia era una piaccia adesso sei una piaccia dici vedi ma voleva parlare 候 io faccio apposta ma suoi occhi sono diversi eh mi cica mangia poco che mi adesso stai andando sulla tristezza io sì perché suoi occhi come se mi vuole mangiare lui adesso disgusto adesso disgusto allora che cibo hai pensato hai pensato un cibo no che tu volevi mangiare eh ma che ha proprio pensato un cibo una bella torta una bella torta l'ho già pronta perché dobbiamo precisare il complano di l'aria ancora adesso vedi disgusto il complano di l'aria disgusto no non è possibile no discuso sai perché è discuso perché discuso perché non abbiamo festeggiato il martedì non c'era nessuno eravamo solo io e Jimmy come due picco pallo eravamo incassati picco pallo ecco ecco quando hai detto del compleanno di l'aria eri arrabbiata e quando hai detto picco pallo eri impaurita no si guarda che guarda che da questo punto di vista sul vocal tone se tu stai attenta e poi ti eserciti e fai tanto esercizio sul vocal tone ti accorgi che alcune emozioni non riesci a riconoscerle ma cambiano noi fluttuiamo fluttuiamo allora il cattavosso ero ancora perché poi mi va via la domenica per quello che sono incassata mi andrà via tutta la domenica a cucinare a fare tutte le cose è quello questo è il riconoscimento della rabbia che ci vuole ecco però la cosa importante è capire qual è l'antecedente l'antecedente è stato che non sei riuscita a festeggiare il compleanno di tua figlia il comportamento è un'ansia non c'era un attimo di paura che è spiccata proprio ecco che provoca come conseguenza una sorta di inquietudine di rabbia no in merito a questo argomento che ci ha portato mi va via la domenica a cucinare ancora e non per uno la domenica anche per 5 non so se siamo in 10 o in 8 ecco e quello è il mio problema domani mi diranno se siamo in 10 o in 8 domani è ecco rabbia domani mi diranno se siamo in 10 o in 8 rabbia e poi ha detto domani è rabbia fai cucinare a tua figlia a questo punto lascia gli la cucina e dice che c'è se lo vedo ti do la soluzione ecco quale gli dai 5 euro l'uno e le mandi tutte al McDonald's no non costa più 5 euro dalle McDonald's costa un 8 euro perché già è pronta la mia eh 5 euro sono le amiche di tua figlia hanno l'età per poter organizzare una festa a tua figlia sorpresa no ma non sono le amiche sono parenti quello è la mia bruttezza il problema sono tutti parenti alla romana o alla portoghese alla portoghese quanti può fare il suo alla catalana perché sai qual è il problema alla catalana o alla valentia serio non è solo questo c'è anche l'altro io che tra due settimane sono ancora in ballo per un altro pranzo perché c'è Sofia il 23 si nota bene si nota davvero no si è arrabbiata quando dici questo cosa c'è il 23 c'è Sofia che fa 11 anni il 23 e c'è dice c'è mia cognata tanti problemi se tu fai tanti figli ti hai detto un sorpresa se tu fai tanti figli cosa vuoi eh questa questa frase è qua è una sorpresa come non lo sai come non lo sai hai capito com'è il mio problema peggiore che non è che è finita li dovrò organizzare riorganizzare ancora gli stessi gli stessi li dovrò avere ancora io il 23 e ancora di più vabbè ma quanti sono loro quanti figli ha io ce ne ho 13 figli e ti confunde per te il parentados che arriva capito no ma sai cos'è non è il problema dei figli cioè i miei nipoti che ce l'aveva un martedì il mio nipote il martedì prossimo ce l'aveva mia figlia così due compleanni si fanno in uno così domenica prossima sono tutti mia cognata e mia figlia ce l'aveva ancora una settimana di differenza ci fa ancora la stessa no perché risolve due anni non insomma anche quello di Sofia gli dite ah no buono non si può non si può perché se no si deve fare dopo Sofia abbiamo mia cognata e Sofia ce li avvano tutti e due una settimana di differenza cinque anniversari in uno lo vorresti fare tre anniversari in uno quattro io non c'è giugno luglio agosto io sono a posto con i compleanni con i compleanni lascono tutti in quel periodo l'onomastico allora io no non c'è oggi io comunque quando è che faccio l'onomastico il 9 cioè oggi no l'onomastico domenica sì beh veronica comunque il 9 luglio se volete se ne faccio gli auguri prima perché io dimenticherò già va bene perché non li festeggio adesso sentiamo un po' un'altra voce Sonia per esempio la mia raccontaci qualcosa dai che ti devo dire eh non lo so raccontaci qualcosa adesso una un episodio tuo marito tuo marito così vediamo come stai ecco il tuo marito mio marito ora c'è un computer mio marito mi facciamo vedere il grafico no però ancora non è ufficiale non lo possiamo fare pubblico ecco ecco vi facciamo vedere come l'abbiamo progettato vedete ecco questo è il grafico in più no non si vede niente si vede analisi A B E C non si vede niente allora no perché forse sono ancora dentro io condividi ah ok giusto adesso adesso no ora no ancora niente ora ora si ora si ok no no ora si meglio così ora ti faccio vedere una cosa ti faccio condividi finestra che è più preciso è preciso fare condividi una finestra che è più ecco vedete non me la guarda sfugge si sfugge niente no facciamo un'altra condividi una scheda no una scheda è una per forse quella niente condivido l'intero schermo è l'intero schermo non sarà in tempo reale perché è una trasmissione vabbè ecco così lo vedete bene ecco comunque facciamo vedere qual è l'idea ecco questa è proprio l'idea del grafico che appare quindi tu parla e raccontaci qualcosa di tuo male allora no prima che gli spiego un po' vedete tutte queste cose content content in inglese sarebbe disprezzo sadness sarebbe tristezza surprise surprise sarebbe sorpresa disgust disgusto anger rabbia happiness felicità disgust 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 infine felicità sono sette emozioni di base universali allora poi che succede che ci può essere un picco di queste emozioni che io ho segnato qui nel grafico quando c'è un picco è da considerare che quell'emozione è espressa in maniera molto surprise quando c'è un picco quell'emozione è espressa in maniera molto forte e quindi quella più alta ok allora ne consideriamo che quella è l'emozione da da evidenziare che vi ha colpito di più prevalente ok adesso vediamo Sonia prova a fare un discorso parlare di qualcosa insomma come è andata tra l'altro la riunione lì a Roma allora oggi mi hanno mi hanno chiamato oggi mi hanno chiamato ora entro domani sì se ce la faccio domani se no lunedì gli mando tutto sì lunedì va ora e si parte per Roma mando tutto a Tristetta novembre 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 si parte novembre si parte vediamo cosa c'è eh surprise si parte si parte sorpresa per lei è una sorpresa per me sì e poi vabbè la paura è normale che c'è perché è cosa nuova è naturale vediamo eh niente la cosa che mi hanno detto a me che mi ha fatto un poco così dice che sono l'unica in tutto il mondo vediamo quello che succede vediamo se è vero quello che succede paura paura vediamo quello che succede paura vediamo se è vero che posso essere d'aiuto con tutti questi bambini vediamo se ci riesco vediamo se ci riesco rabbia paura vediamo se ci riesco vediamo se è vero rabbia vediamo se ci riesco paura ok vediamo ti riconosci in queste emozioni che ti abbiamo riferito sì sarò un poco così perché non lo so quello che succede è vero ecco noi quando viviamo momenti particolari della nostra vita in cui riceviamo una diagnosi abbiamo conferma di una mutazione non sappiamo cosa ci aspetta perché comunque vogliamo come nel tuo caso un altro bambino per tua figlia in modo tale che abbia una compagnia però sia sano e sai che hai una possibilità su due quindi 50% di averlo sano di averlo ancora malato e per cui bisogna riflettere molto bene ecco tra l'altro proprio notizia di questi di questa settimana che pare che abbiano fatto passare una legge che fare una fecondazione in vitro su una malattia genetica per poi rifiutare gli embrioni malati diventi un reato praticamente quindi vai coi piedi di piombo nel senso che adesso purtroppo tutta la questione dell'utero in affitto delle fecondazioni assistite in vitro stanno rimodellando un po' la legge e quindi non crearti troppe false illusioni ecco stai un po' con i piedi per terra e vivi al momento quello che ti dicono che puoi fare o non puoi fare allora perché come il discorso che lo perché purtroppo sai queste cose sono vincolate molto anche da fattori politici purtroppo ecclesiastici religiosi hanno paura che questi embrioni dati alla scienza servano a chissà quale sperimentazione creare creare dei cloni piuttosto che fare delle mutazioni inserire delle mutazioni genetiche in altri soggetti o in altri esseri viventi quindi adesso tutto questo aspetto della ricerca di base viene frenata molto dalla paura e dall'ignoranza molto probabilmente che c'è anche nel sistema di non capire che in realtà se una persona è malata e come può andare a concepire un bambino down e poi abortirlo e il diritto all'aborto c'è perché c'è una legge da 196 che ci tutela da questo punto di vista dall'altra parte però possiamo essere personalmente d'accordo non d'accordo questi sono fatti di ognuno di noi però quello che conta molto è valutare proprio la questione di come possa essere ancora più pericoloso per una donna dover abortire piuttosto che dover fare una fecondazione assistita in cui viene impiantati solo i due embrioni che sono geneticamente sani questa cosa per un periodo è stata concessa perché comunque se per motivi di salute veniva ritenuta possibile adesso alcuni vanno proprio in Spagna dove la cosa è permessa oppure in Polonia insomma in altri paesi all'estero perché qui in Italia ancora viviamo il tabù un po' dell'imposizione ecclesiastica che dice ah no voi non potete manipolare i geni non potete volere il figlio sano e non quello malato perché è solo Dio che decide questo ho capito però è solo Dio che decide quello però i parri ne caso pur o maniaci quello non lo mettono capito perché ora spasimi i parri in stato maniacale ci sono tutti possiamo no tutte santi sono tutti santi poi fanno delle brutte cose ma quelli sono malati sì per carità però voglio dire magari si possono evitare certe sofferenze a un bambino evitando addirittura che venga a concepito mi capisci e che il problema lo sa come la penso io che certe difficoltà non le possiamo non le possiamo raccontare ma solo chi è che li vive se questi bambini potessero parlare le cose che direbbero che lo so solo Gesù Cristo no loro che vedono e dicono che la chiesa così per la chiesa l'aborto questo no per la chiesa per la chiesa perché il primo il papa non si leva tutto l'oro che ha e gli aiuta tutti questi bambini che non hanno manco l'acqua per bere ha potuto mangiare se l'ide in questa frase non l'ho capito però sì perché ci sono stati i preti o i vestoli eccetera che lo sappiamo con i fondi con le donazioni fondi donazioni poi vero loro se le mangiano che aiutano tutti questi bambini d'accordo purtroppo ci sono dei dogmi religiosi che adesso impediscono ancora certe cose per cui ecco insomma vivi la cosa con estrema serenità e fai ciò che ti permette la legge perché purtroppo qui le cose ti dico sono in continuo mutamento quindi se a novembre ti hanno fissato questa valutazione senti cosa ti dicono e poi in base a quello che ti dicono valuta perché magari prima devo vedere questo discorso di sta sindrome di Hales-Mortelvan che non so niente proprio io sto andando a domandare poche informazioni se vuoi ti faccio una ricerca più approfondita su Papamera però è tutto in inglese che non è il problema va bene l'inglese io un po' lo capisco poi c'è mia cugina che è americana me lo faccio fare da lì io ti consiglio Mangaloni che lo sa molto meglio di me di guardare come si chiama più generalmente in maniera più generale in che ambito è inserita questa malattia generalmente che tipo di malattia autosomica dominante e poi c'è un sottoambito si è il cromosoma 3 nel testo cromosoma l'ambito poco prima di Hales-Mortelvan qual è il dominio quello più ristretto qual è questo che hai detto tu giusto si cromosoma 3 secondo me se ci vuole capire qualcosa si deve studiare cosa sono questo tipo di malattie qui in generale sì vabbè perché non so niente dice che è stata scoperta nel 2000 qualche due anni fa una è stata diciamo per la prima volta gli è stato dato il nome però già nel 2016 l'avevano individuata la mutazione il problema è che hanno dovuto cercare i casi capito per confermare la malattia perché tu quando trovi una mutazione inizialmente puoi pensare soprattutto se la trovi in un soggetto magari sano quasi sano che possa essere un polimorfismo no? è una mutazione una mutazione normale cioè che tutti noi abbiamo delle varianti no? di geni che stanno nella normalità poi bisogna però capire quanto quella delezione quella mutazione rimane normale e per quanti poi se volete vi farò una lezione solo sulla trasmissione genetica comunque per quanti basi del DNA può rimanere normale essere considerata normale e dopo un certo numero di basi di sequenze che si ripetono di quella mutazione la mutazione diventa malattia effettiva è ovvio che tu che sei sana un po' hai messo in discussione questa cosa capito? perché ma la cosa più sana è che sono l'unica in tutto il mondo picciotti cioè proprio non lo so che cosa se mi sperimentano come i succi non lo so no dai tesoro tranquilla sicuramente tu hai la fortuna di essere sana quindi io purtroppo sì sono stata un po' usata fai conto che a me hanno fatto solo in America quattro biopsie scolari ok? quindi mi hanno veramente usato come un topino da cavia e essendo malata ovviamente avendo problemi neurologici molto gravi per cui sono rimasta in carrozzina per 27 anni puoi immaginare che ero molto compliante alla fine mi ho malgrado a fare questi esami perché il mio interesse era capire che cosa mi succedeva come anche adesso quando ho avuto questo aggravamento in realtà per me è stata un'opportunità anche per capire come si scatenano questi aggravamenti no? e quindi di mio buon grado ho avvisato subito la neurologa così gli ho detto fammi subito l'elettromiografia e l'elettroencefalogramma cosa di cui Dario non era assolutamente d'accordo perché poi sono stata anche peggio ovvio perché il dolore degli aghi eccetera ovviamente mi hanno irritato ancora di più il muscolo e i nervi però dall'altra parte sono anche contenta come contenta la pianurologa che se ne andrà un bel convegno esatto perché dovevo capire dovevo capire cos'era l'aggravamento e perché si scatenava l'aggravamento e come al solito si scatena sempre dopo che io ho un'infezione una bronchite una polmonite un'infezione respiratoria o anche di altro tipo però importante ecco e quindi a distanza di una settimana massimo due giorni ho una crisi epilettica che ho un aggravamento della malattia neurologica quindi queste sono le mie due alternative quindi ogni volta che prendo l'antibiotico poi sono terrorizzata perché non so che cosa succede però dall'altra parte ti dico a distanza di anni considera che io ho aspettato non due anni ma 19 anni la mutazione quella mutazione che inizialmente sembrava essere un polimorfismo quindi una mutazione così senza senso e così l'avevamo interpretata all'inizio per cui ne cercavamo un'altra di mutazione continuavamo a cercare altre mutazioni nel mio DNA all'infinito quando poi alla fine ci siamo resi conto che quella era la mutazione perché poi nel momento in cui la mia malattia ha giovato di alcuni farmaci che io ho individuato perché poi a fuori di studiare ovviamente ho detto quello forse andrebbe bene per me quello no perché l'ho già provato sulla mia pelle mi ha solo aggravato e peggiorato la situazione e quindi considera che io sono arrivata nel 2002 a non poter mangiare quindi perché avevo lo stesso spasmo che ho le gambe che l'avevo anche nelle braccia per cui era impossibile per me avvicinare anche solo il cucchiaio la forchetta la bocca e i miei genitori per un anno e mezzo mi hanno dovuto imboccare quindi insomma una questione piuttosto pesante io andavo all'università però con l'idea che non avrei mai potuto maneggiare neanche una provetta o visitare un paziente poi grazie a Dio l'effetto di quei farmaci si è esaurito nell'arco di sei mesi e più e ho ripreso la mia manualità e la mia possibilità di rimuovere e coordinare gli arti come prima e però appunto queste fasi che ho passato di aggravamento della malattia mi hanno permesso di capire quali erano i farmaci sbagliati e quelli giusti quindi la molecola migliore per me e di proporre anche la modifica del farmaco a chi poteva appunto promuoverla e finanziare i soldi per questo nuovo farmaco e per cui adesso gioco di questa di questa cura ovviamente è stato un percorso lunghissimo capisci di 27 anni quindi molto molto tortuoso molto difficile che però alla fine insomma dopo 30 anni è arrivato alla sua definizione quindi io sono anche solo contenta di questo insomma anche perché poi di fatto ti dico ci sono stati dei momenti bui però ci sono stati anche dei movimenti di ripresa e di speranza quindi io mi sono concentrata più su quelli e sul fatto di poter studiarli ovviamente non posso pretendere nessuno può pretendere che tutti quelli che si ammalano diventino medici e si aiutino da soli però quello che tu puoi sperare è con il medico che sta studiando questa malattia di farti seguire il meglio capisci? ecco hai la fortuna tra l'altro di star bene quindi ti dico questo è una cosa positiva per te perché loro sì magari ti faranno fare degli esami perché devono accertare il tuo stato di salute perché vogliono capire come senti come vedi come ti muovi e come mai non hai danni e se li hai magari anche minimi non ti spaventare perché alla fine è una conferma della patologia che però tu grazie a Dio hai così minimamente espresso quasi niente che stai vivendo una vita normale serena capisci? non niente esatto questo è la cosa che ma guarda ti dico anche della mia malattia io sono sicuramente tra le più fortunate insieme a un'indiana e a un'altra come che era svedese cioè siamo tre al mondo così capito? vabbè se Deggia io sogno sola ecco però non non ho il nome delle nero sola che male accompagnata no ma in queste case no è così in queste case no ecco e fa bene c'è una soluzione Sonia non ci sono prendi da scherzare no vabbè si vede che non mi conoscete ancora no beh ma lei dice meglio a soli che male accompagnati nel senso che effettivamente anch'io conosco l'esistenza di questi tre casi altri due casi non tre e so di essere la terza con la stessa patologia e la stessa malattia però so anche che ci sono casi molto più gravi dei miei perché le ho viste anche nella mia famiglia di origine le ho viste anche perché sono tornata in Bolivia ho fatto gli esami a tutti i parenti sono andata a prendermi il sangue di tutti dal primo all'ultimo ne sono escluso e quindi ho potuto fare tutti gli accertamenti del caso ovvio devo ringraziare anche la mia famiglia perché se non avevo una famiglia che mi aiutava a ottenere questo no no va bene così a ottenere questo risultato non sarei riuscita mi capisci e poi il fatto stesso che sono potuta andare a farmi curare in America perché a quei tempi la mia malattia manco era studiata in Italia manco era contemplata nei libri italiani quindi c'era questo professore italiano italiano in realtà professor Di Mauro che era l'unico che studiava il mondo queste malattie mitocondriali e quindi sono andata là appena mi sono laureata in medicina stavo iniziando la specializzazione in pediatria proprio perché sapevo che era l'unica persona che mi poteva aiutare un domani ad avere una terapia se c'era una speranza era lui praticamente per me e questo sono riuscita quantomeno a raggiungerlo e a tenerlo anche se con un lungo lavoro un lungo periodo di attesa eccetera per cui io ti auguro che tra un po' tra un po' di anni anche tu potrai raccontarla in senso positivo perché magari questi studi adesso non ti voglio illudere però ti voglio dare la speranza possano servire a tua figlia e a bambine come tua figlia capisci? sì ma la cosa che mi fa diventare una pazza a me psicopatica perché io poi divento una pazza psicopatica che gli fai domande a genetisti arriva la genetica l'esoma e te lo spiega una genetista gli fai certe domande a queste genetiste e ti lasciano così come se non sanno di che cavolo stanno parlando ma porca miseria io divento una pazza perché io gli faccio delle domande e vorrei delle risposte ma risposte non ne ho e io ancora non posso vivere nel come mai perché e come e quando e che cosa succede sempre con i punti interrogativi no è impossibile eh ti dico ci sono passata non è impossibile si può vivere perché comunque alla fine te ne devi fare anche una ragione dici va bene è toccato a me purtroppo poteva toccare anche a un'altra cugina un altro parente e invece vabbè è toccato a me però la cosa ma non per cosa ma è lì perché io io so che Aurora c'ha la mia stessa sindrome ok però no non è proprio uguale uguale è un'altra variante che nel mondo ce ne sono 500 ora dico io con questa sindrome mettiamo caso dicono ah sta sindrome porta a questo porta a questo porta a questo e allora le terapie giuste mirate devi fare questo devi fare questo devi fare questo ok quello che dico io invece no dicono la bambina ha questa sindrome fai tutti i terapii possibili immaginabili ma poi vediamo che alcune funzionano e altre non servono a un cazzo capito perché io voglio sapere va bene io dico ah mia figlia c'è questo o devo fare questo no mia figlia ha questo io non so quello che cavolo devo fare eh lo so il problema è appunto il fatto della rarità sul fatto delle malattie rare io me ne sono sempre occupata è proprio questo il dramma che certezze non te ne dà nessuno perché o vai dal massimo esperto come questo qua di Roma che magari qualche risposta in più ce l'avrà rispetto agli altri ma non pensare che gli altri abbiano qualche risposta se non magari inventarsela mi capisci per cui è meglio che siano zitti e non ti dicano niente che ammettano la loro ignoranza cioè apprezza di più questo tipo di persona che quello che ti mente capisci perché io per esempio ti dico sono stata seguita per tantissimi anni al Policlinico di Milano e un po' il Besta l'avevo snobbato perché comunque sì Besta aveva firmato la mia autorizzazione per andare negli Stati Uniti per andare a farmi curare là però poi non è che mi aveva ripreso in carico quando sono tornata in Italia e c'era stato solo questo professore di neurologia Scarlato che mi aveva preso in cura e allora cosa ho fatto praticamente mi sono messa in cura da queste persone che andavano in America seguivano questo professore e io chiedevo loro mandate la documentazione a questo professore perché io cosa ne sapevo se questo italiano con il nome italiano di Mauro Billy di Mauro lo chiamavano invece il nome era Salvatore di Mauro e parlava anche l'italiano io le prime volte che gli scrivevo gli scrivevo in lingua inglese convinta che lui parlasse sull'inglese e invece poi ho scoperto che lui in realtà era italianissimo veniva tutti gli anni in Sardegna ed era si era laureato a Padova ma questo l'ho scoperto dopo un anno che gli mandavo email dove alla fine lui mi ha risposto sì va bene ti do l'appuntamento fammi sapere quando sei qua in America e a questi email aveva comunque risposto in inglese perché io scrivendo bene l'inglese pensava che io fossi comunque di lingua inglese e quando sono andata là la mia amica si è presentata che parlava in americano stretto per cui pensava che era mia madre e abbiamo tenuto tutta una conversazione in americano per poi scoprire che parlavamo tutti in italiano anche quando sei andate al lago di Seo che ricordi sì la mia amica io e anche il professore capisci quindi questo per dirti quanto sono rimasta e quando io gli ho chiesto ma lei ha ricevuto già la mia documentazione no finché tu non me l'hai mandata personalmente io non l'ho mai ricevuta quindi scusami il termine ma adesso mi arrabbi anch'io tutti quegli idioti lì del policlinico che mi continuavano a dire non ti preoccupare mandiamo noi la relazione al professor Di Mauro e anche quelli della Mayo Clinic col cazzo che hanno mandato la mia documentazione al professor Di Mauro non lo so dove l'hanno mandata ma l'hanno mandata a tutti tranne anche a lui capito quindi se non andavo la io a portargela di persona o gliela mandavo in parte già per email lui del mio caso non avrebbe saputo nulla io sarei stata lì eternamente ad aspettare che questo professore mi dasse una risposta quando non sapeva neanche della mia esistenza e invece quando ha saputo della mia esistenza immediatamente mi ha detto guarda se vuoi venire a studiare qua in America che devi fare così 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 mi è inscritto per Berbenino mi ha spiegato tutto il percorso che dovevo fare quindi farmi il diploma della lingua inglese fare convalidare la mia laurea negli Stati Uniti e poi andare a seguire i master seguire i corsi in America per poter accedere a uno stage lì alla Columbia e io perché questo perché l'obiettivo era quello di prendermi come studente che accettava anche la ricerca su me stessa che tanti studenti lì in America proprio per mantenersi agli studi lo fanno si offrono come cavie tra virgolette un po' come stai facendo tu adesso e poi io per darsi sì sì per mantenersi agli studi quindi si fanno fare le lombari si fanno fare le racchicentesi le biopsie anche a me mi ricordo mi avevano detto se vuoi dopo che giorno prima mi hanno fatto l'ennesima biopsia il giorno dopo mi volevano fare anche la lombare gli ho detto anche no grazie ne ho già fatte quattro e forse l'ennesima non me la becco anche perché so quanto si sta male quando ti prelievano i liquido in cefalo rettidiano dal midollo spinale e quindi insomma va bene va bene tutto però c'è un limite ecco anche al rendersi cavie degli altri questo limite poi lo imponi tu a un certo punto vedendo comunque io a mio marito gliel'ho detto se non conclude un cavolo manca a Roma manda a fanculo a tutti perché mi sono rotta letteralmente le palle io sono stata dieci giorni dieci giorni a Troina a vedere torturata mia figlia nove fiale di sangue gli hanno tirato in un giorno mi veniva di fargli proprio l'estinto omicida gli ho detto oggi ammazza qualcuno no l'elettromiografia gli hanno fatto a quella bambina e io la tenevo sembrava posseduta come faceva mia figlia baissa 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 ancora non ha affonnato il tuo computer no 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 si vede si vede tranquilla però la cosa importante no no si è fuso ancora il computer però la cosa più importante credimi non è tanto come dire imparare a gestire la propria rabbia anche la propria disgusto per questi periodi però cercare almeno io mi sono concentrata personalmente molto sul risultato ho detto va bene studio faccio i sacrifici guarda ti dico sono arrivata a essere umiliata in tutti i modi altro che bullismo e mobbing di più addirittura ho avuto un insegnante di anatomia che non mi faceva entrare nella struttura e non mi diceva che c'era un ascensore mi faceva sollevare dei compagni che poi uno è anche caduto per arrivare al dipartimento di anatomia ok cioè poi quando l'hanno saputo all'università ovviamente si sono scandalizzati ma tra cioè a parte la breve mi hanno dovuto pubblicare sui giornali capito ecco per far scandalizzare l'università in merito a questa cosa perché è un obiettore di coscienza aveva saputo che c'era un ascensore e questa stronza non ci dava le chiavi ecco e perché? perché diceva che una disabile non doveva laurearsi in medicina capisci? quindi di angheria ne ho vissute a manetta però comunque io mi sto facendo tutti questi corsi per sapere di più e ora appena finisce questo mi faccio quello di fisioterapista mi faccio tutte perché nessuno mi dà le risposte io me le devo giovare in qualche modo me le devo giovare ecco brava questo è l'atteggiamento che devi avere rispetto alla malattia di tua figlia e alla malattia che ti è stata anche diagnosticata su cui tu grazie a Dio non hai sintomi non hai niente il fatto che tu sai bene sfrutta questa opportunità per dar voce a questi bambini capito? perché anche io tante volte mi sono sentita incaricata di questo compito per quello che io ho fatto tanti conveni sulla disabilità fin dal 2002 praticamente da quando ho iniziato a fare anche le partite del cuore con i cantanti con i magistrati eccetera perché? perché mi sentivo il compito di rappresentarli avendo voce sapendo parlare e mandare a fanculo le persone quando devo capito? non mi tiravo indietro dal non farlo perché? perché anche frenare la carrozzina vi dicevo l'altro anche la lezione di un ragazzo disabile che non ha la possibilità di dirti non voglio è una violenza è un abuso quindi io negli Stati Uniti ho notato questo che nessuno si permetteva di toccarmi la carrozzina come fanno qua in Italia che prendono me la portano via e io magari in quei giorni non posso neanche alzarmi capito? perché purtroppo le mie gambe non mi reggono e questo perché? perché la gente anche nel mio ambito medico ti dico sono molto ignoranti io l'altro giorno ho parlato con un collega che dovrebbe essere il mio superiore ma grazie a Dio se ne va in pensione presto che a spiegargli l'aggravamento della mia malattia faceva fatica a capire mi capisci? perché? perché purtroppo è un nefrologo è un cazzo di queste cose però l'hanno messo lì a fare una roba che esatto non si capisce che cazzo c'entra e quindi anche lui si trova in difficoltà a capire le situazioni dei pazzi infatti mi chiede sempre a me di andare a valutare i bambini eccetera perché? perché lui non è sa un cazzo di valutare questi bambini che hanno bisogno neurologici capisci? quindi anche basta un medico che ha fatto una specializzazione diversa non ha approfondito un aspetto delle alcune malattie che già è un pesce fuori d'acqua non capisce ma è un po' come non so per dirti se uno mi dice una malattia nuova come la tua anch'io alzo le mani dico per carità ascolto capisci? perché se questo professore l'ha studiato ne sa qualcosa il mio consiglio è corri da questo professore e fatti aiutare da lui ovviamente puoi aspettare che lui abbia la soluzione in mano perché magari la soluzione in mano come è stato nel mio caso arriverà fra vent'anni ventidue anni mi capisci? e passerà del tempo io mi sento una cosa però non lo so io non faccio niente com'è? ma io non vado a fare niente non vado a fare io a Roma non vado a fare niente perché non mi daranno manco una risposta e io scenderò così con le ali cadute io lo so ma io ti dico non tu tenta sempre tutto cioè non non so come dirti non avere mai questo è stato un po' anche il mio motto ma è stato anche scusatemi un consiglio che mi ha dato mio cugino quando è mancato è di vivere la mia vita a pieno e di non tirarmi indietro su nulla ecco lui anche lui era affetto dalla malattia rara e ti posso garantire che questo consiglio che mi ha dato propriamente stavo studiando medicina genetica mi ha aiutato tanto mi ha aiutato tanto perché detto da lui che ha sofferto l'inferno 30 interventi solo al cranio e quindi ho capito che non dovevo arrendermi se non si era arreso a lui alla vita e a 33 anni me l'ha portato via non dovevo arrendermi io capito questo è il consiglio che ti do col cuore Sonia non arrenderti perché veramente sei una grande opportunità per questi ragazzi perché possono capire tante cose da te mi arrivano messaggi di numeri del gruppo di questa associazione e allora noi ci stai dando una speranza che i nostri figli possano avere dei bambini possono avere una vita sicuro è così te lo dico col cuore perché l'ho vissuto l'ho vissuto sulla mia pelle e allora giorno a novembre andiamo a Roma e vado a fare il topo da laboratorio che devo fare? ma vivilo con la prospettiva di dare una mano a questi bambini vivilo con questo e ti garantisco io l'ho fatto perché non stavo bene capisco tu stai bene però proprio perché stai bene una bambina malata pensa di farlo per lei concentrati sul fatto che puoi dare un'opportunità ad Aurora innanzitutto capisci e che non è così scontato dare questa opportunità alla propria figlia perché magari qualche altra mamma vorrebbe essere al posto tuo capisci anche anche no io mi devo sentire dire questi bambini non è sicuro che parlano questi bambini non è sicuro che camminano io ah allora quello che sto facendo non sta servendo un cazzo no 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 non pensarla così tu pensa sempre innanzitutto che tutto quello che stai facendo è dare mantenere la muscolatura tua figlia perché se un domani il muscolo andrà a regredire no perché se un domani arriverà una terapia genetica come è stato per la distrofia muscolare io ne ho visti tanti guarda di bambini ho un'esperienza da questo punto di vista veramente significativa bambini con distrofia muscolare che fino a un anno prima non potevamo trattare finivano in carrozzina appunto e basta e poi da un momento all'altro è arrivata la terapia e potevamo trattarli e si rialzavano dalla carrozzina appena arrivata la terapia genetica quindi veramente non disperare capito cioè cerca di guardare le cose in proiezione senza illusioni ma con realismo ma in termini positivi chiedi a questo professore che studi stanno facendo sulla terapia genetica se questo gene questa mutazione è collegata a un enzima se sia quale enzima e magari ti ho detto mi propongo anch'io per approfondire questa patologia vedete voi cosa hai trovato ovviamente magari posso dare una mano anche alla tua associazione se vuoi mettermi in contatto con loro io lo posso dire ma l'importante è perché quello che è stato fatto per la mia malattia che è un modello capito è solo una malattia delle tante mitocondriali e si possa replicare magari anche per la tua perché nel capire la mutazione che poi all'inizio te l'ho detto dicevano che non era una mutazione malattia che era solo un polimorfismo e tutta una serie di minchiate andiamo a cercare un'altra mutazione vai a riprenderti altro sangue dai parenti e poi alla fine era quella la mutazione ne capisci anche io mi sono sentita presa per il culo mi ho detto francamente mi sono anche incazzata con questi medici li ho mandati tutti a fare in culo perché gli ho detto scusate ma io vi ho portato il sangue una volta poi due volte dove cazzo li avete messi tutte queste provette questi esami dove sono gli esami ho il diritto di vederli anch'io non solo voi capisco che è un vostro studio ma io sono un medico paziente che si è sottoposta tutto di più per arrivare a un punto della situazione quindi ho il diritto di vedere il DNA dei miei parenti di mia madre di mio padre dei miei cugini capisci e quindi mi sono imposta su questa cosa e alla fine sono riuscita a capire che era un enzima che mi mancava bene allora se c'è un enzima io so che c'è un altro coenzima perché io l'ho studiato i miei compagni magari no quel capitolo l'hanno saltato ma io i capitoli di medicina del libro di patologia di anatomia non li ho saltati manco uno perché non sapevo dove era la mia malattia quindi li studiavo tutti per sicurezza capisci e quindi questo mi ha portato a voler diventare più completa possibile a non fermarmi mai a voler sempre studiare sempre capire perché più studi più capisci che sei ignorante in altre cose vuoi saperne di più su altro capito e quindi ammettere la propria limitatezza la propria impossibilità di sapere tutto è un gesto di umiltà che ti permette anche di avanzare di non fermarti lì capito di non fermarti sul banale sulle risposte banali infatti molte mamme dei bambini che avevano distrofia muscolare o fibrosicistica mi dice dottoressa parlare con lei è un piacere perché alla fine lei ci dà una risposta e ci spiega le cose con termini semplici i professori che andiamo al buzio andiamo al berzo paroloni e poi non capiamo niente no usano termini proprio perché manco nel vocabolario ci sono esatto ma forse perché a volte non li sanno neanche loro quei termini capito e quindi si riempiono la bocca di quei termini per nascondere anche la propria ignoranza capisci perché io ti posso garantire che ho trovato dei professori come il professor Di Mauro ma come anche il professor Nico il professor Steven Shaw che voi avete conosciuto e che rivedrete poi a un prossimo incontro sicuramente sono professori di altissimo livello a livello mondiale ma sono umidi stanno con te al telefono come se fosse l'amico di Dario piuttosto che mio di dieci anni fa mi capisci vent'anni fa perché questo perché anche loro sono arrivati con le loro forze hanno fatto i loro sacrifici nessuno gli ha preparato nulla di pronto hanno fatto il loro percorso tortuoso e difficile per cui hanno rispetto delle persone non hanno la supponenza di chi è stato raccomandato e messo lì che allora è talmente ignorante che deve mascherare la sua ignoranza questi sono gente che sa e in quanto sanno sono semplici quindi io mi sono resa conto che alla fine tanti professori medici che io stimavo e di cui avevo tanta stima mi spiace dirlo ma erano solo degli stronzi mi capisci? è la stessa cosa che vengono da me persone che di cucina ne capiscono un cazzo vengono da me che di persone non ne capiscono niente e mi comincio a dare comincio a spiegare gli piatti difficilissimi con termini fuori dal normale mi guardano mi guardano rincoglionite cioè è normale invece no certo no no io ti capisco da questo punto di vista ma devi sempre guardarlo dal punto di vista di tua figlia se tua figlia potesse fare qualcosa aiuterebbe gli altri aiuterebbe se stessa sì allora lo devi fare tu al posto suo perché evidentemente questo onore è stato dato a te invece che a lei ma l'importante è che tu riesca a portarlo a termine serenamente capito ovvio se poi serenamente a me non mi piace eh lo so lo so però devi impegnarti affinché sia così magari farti aiutare anche da qualcuno perché non sono momenti facili già il fatto che tu ne parli con me io spero ti possa aiutare però non so quanto ti possa aiutare effettivamente a livello proprio interno capisci a metabolizzare questa cosa io per esempio ti dico la verità quando mi sono ammalata che poi mi sono aggravata avevo 14 anni fai te quindi in quell'età molto fragile capire che dovrai finire in carrozzina non è bello sentirselo dire mi capisci e a un certo punto mi hanno detto mia madre mi ha detto guarda devi andare da un era uno psicologo inizialmente che era stato proposto ma mia madre ha detto io ero psicologo non ne voglio sapere mi ha trovato un bravissimo neuropsichiatra che mi ha preso proprio in terapia e mi ha fatto anni di terapia perché io accettassi la malattia e questo lavoro che io ho fatto sull'accettazione della malattia io lo ricordo con emozione non so come dirti perché comunque quel professore ha fatto un grande lavoro su di me capito mi ha dato proprio io mi ricordo ancora quando è morto questo professore poco prima di morire ha chiesto alla figlia di chiamarmi al telefono io avevo 18 anni finivo il diploma e dovevo scegliere se fare medicina o fare qualcos'altro io volevo fare lingua ovviamente interprete parlamentare volevo diventare e l'idea era quella di fare interprete parlamentare perché comunque l'idea di studiare la mia malattia e di entrare in un ambiente medico mi angosciava poi era un ambiente che non mi piaceva già come paziente figurati come collega di questi stronzi e vabbè viene strutturato e allora mi veniva la repulsione mi veniva la repulsione solo al pensiero perché gli dicevo a mia mamma sono come un pulcino che finisce in una tana di iene mi capisci e quindi avevo paura di essere mangiata da queste persone però dall'altra parte mi ricordo ancora questa frase di questo professore che ha avuto questa questa idea di dire alla figlia chiamami Veronica perché voglio salutarla e mi ha detto guarda io ormai ho ancora poco e io non capivo che cosa intendeva perché io non accettavo il fatto che lui potesse morire ovviamente sai 18 anni non è che hai vissuto tanti lutti in famiglia e quindi ne sai e quindi lo ascoltavo e io mi ricordo ancora come oggi la frase che mi ha detto immagina di essere a una maratona e io ti sto lasciando il come si dice l'uida no no il professor Moretti mi ha detto proprio questa frase Giorgio Moretti mi ha detto proprio questa frase io ti sto lasciando il testimone capito e quindi coglilo e portalo avanti tu e devi arrivare fino ad accendere la fiaccola perché devi illuminare le persone sulla tua malattia capito ecco questo compito che mi aveva dato mi ha fatto capire quanto era importante per lui che io non mollassi perché lui poi dopo neanche una settimana è mancato eppure ha sentito il dovere di dirmelo sì lo capisco che mi piaceva il testimone capisci però io campo di però eh lo so e sarà così finché non risolverai tutte le tue domande è normale guarda io finché non ho trovato la io c'è stato un punto che non c'è più sperato nella terapia ti dico la verità e quando lo all'inizio avevo rifiutato questa terapia e c'erano i professori quelli del best che impazzivano perché dicevano cazzo adesso ce l'abbiamo la terapia e questa non la vuole più e quindi hanno dovuto chiamarmi lì il professore da Cambridge per convincermi io ho dovuto fare un incontro con lui ho dovuto parlargli chiedergli tutte le controindicazioni e poi mi sono beccata la terapia nel bel mezzo del covid che poi non potevo più fare esami tutti gli appuntamenti erano saltati però che se ne frega a un certo punto io ho visto che stavo meglio e non sapevo ancora se era placebo se c'era placebo o se c'era dentro il farmaco quindi se era un'illusione oppure se era la verità se era una suggestione oppure no i miei genitori quasi non credevano a quello che io gli dicevo al telefono perché loro quell'anno lì mi hanno visto tre volte praticamente perché non potevano entrare nella zona di Bergamo no era tutto bloccato quindi era impossibile e io andavo avanti a lavorare avanti indietro eccetera e mi confidavo con le inferiore con chi potevo capisci mi dicevo mi aiuti andare in bando cazzo ma ti alzi sì mi alzo con la terapia nuova cioè mi dovevo confidare con estranei per farmi aiutare mi capisci l'ho vissuta da sola quella ripresa praticamente quando sono andata la prima volta al best ormai era un anno che ero in terapia e tra l'altro hanno dovuto fare una brutta una bruttissima cosa quindi togliermi il farmaco per poi rimettermelo per vedere effettivamente il miglioramento registrato se no i dati clinici non avevano valenza e io ho dovuto accettarlo con grande dispiacere perché sono dovuta tornare in carrozzina per poi ritornare a camminare cioè da girarti i propri coglioni in inglese detto in inglese certo può peggiorare molto esatto perché è la rabbia di Dario voi dite di farmi di farmi aiutare di parlare con qualcuno io invece no perché io già ci sono stata allo psicologo ci sono stata per il discorso del controllo della rabbia ma non mi è servito un cazzo io ora ho non mi è servito a niente a niente ma un po' di rabbia sana ci vuole nel senso che ti aiuta anche a buttare fuori quello che c'hai dentro alla fine sei più stabile di tante altre persone che magari la trattengono e poi esplodono in momenti imprevedibili io posso di andermi dallo psicologo preferisco tatuarmi no io la prossima settimana un altro tatuaggio ma c'è ma c'è dedicalo a a questa a questa cosa però io ti dico ti do un consiglio se tu trovi una brava persona che ti sa aiutare non è solamente un amico perché non è non è tanto un tuo marito o un'amica che ti do per questo sia mio marito l'ha avuto i problemi e mi mette per questo sì allora Alma l'abbiamo capito lei l'abbiamo capito ha sempre paura lei è sempre arrabbiata no vabbè adesso finiamo questo discorso dal mio punto di vista invece è molto importante che tu capisca questo Sonia che è veramente importante per te essere supportata avere una persona che ti supporta che poi può essere appunto un psicologo piuttosto vabbè io tra un po' lo sto diventando perché comunque ho già il titolo di psicologa fuori poi ci sono io che sto chiestando di psicologia ah beh c'è Dario eventualmente ora Veronica ora i problemi sono diventati altri per questo io ancora con la testa sono finita proprio di arrivare proprio a Capolina perché ora i problemi non sono più mia figlia io che ne sono altri io ho la famiglia da un mese a venire qua non ho solo la mia ora vede affacciare pure a Dario ora lo vede affacciare perché ora c'è anche quella di mio padre ecco perché mia mamma a 60 anni se n'è andata da un mese capito mi spiace stella mi spiace non lo sapevamo perché i problemi sono aumentati perché a me i problemi che ho io i problemi che ho mia figlia detto in inglese non me ne frega un cazzo perché sono risolvibili tutte cose risolvibili solo alla morte non è risolvibile ma i problemi sono altri un solo che di mia ma pure che di me pace c'è un psicologo io a me pace questo guarda ti dico i momenti più brutti purtroppo te ne succedono di tutte non è un caso per dirti che appunto quando mi sono aggravata in quel periodo lì facciamo più o meno quando mi sono iscritta all'università ho perso tre cugini di botto che poi tra l'altro erano proprio quelli più legati in assoluto quindi purtroppo certe cose periodi si accumulano adesso ti dico mi sono aggravata io ma ho anche mia mamma con il piede ingessato e quindi insomma l'altro giorno eravamo tutti e due in carrozzina con Dario che cercava di spingere entrambe ecco però va bene adesso già sto meglio già sono tornata almeno con le stampelle con il tutore a fare i passi quindi per fortuna è stato un aggravamento che si è risolto rapidamente ma proprio perché perché l'abbiamo preso praticamente in tempo capito a proprio durto l'abbiamo trattato e quindi perché ormai so riconoscerli capito quando mi sto per aggravare quando è la situazione e quindi l'elettromiografia ha subito confermato la tonia la perdita della la presenza del clono in eccesso è la perdita del tono del muscolo e questo io ormai lo riconosco mentre quando ero piccolina che cacchio ne sapevo io di queste robe qua niente adesso che sono medico ovviamente ho più conoscenze per cui se tu vuoi studiare fisioterapia vuoi diventare analista comportamentale e vuoi inserirti nell'ambito della riabilitazione io penso che tu fai un regalo enorme non solo a te stessa che impari tante cose ma anche a quei bambini che gioveranno delle tue cure perché tu lo farai con un'attenzione Sonia che non sarà equiparabile a nessuno di quelle persone che hanno gestito fino adesso anche tua figlia mi capisci? ecco quindi io ti dico vai avanti su questa strada di voler capire apprendere imparare perché sicuramente ti aiuta non solo a distrarti dalle brutti pensieri e dalla tristezza perché io non sapevo nulla neanche Dario e quindi abbiamo fatto le condoglianze veramente no no mia mamma se n'è andata con un altro ah a 60 anni c'è l'amore nell'aria vaffanculo idda edo pur ecco no mi spiace tantissimo e per questa cosa però ti dico una cosa anche quando le cose si accomunano in maniera così gravitazionale diciamo intorno a noi dobbiamo sempre trovare uno spiraglio di luce capito e lo dobbiamo cercare dentro di noi perché se stiamo lì ad astretto no ma io l'ho trovato io l'ho trovato subito esatto io ho mandato a fanculo a tutti bello più spiraglio di questo si muore sei un pochino antisociale quando parli arrivato arrivato a un certo punto questo se si fa no ma guarda stai parlando con una che fa questo gesto è bellissimo è bellissimo è bellissimo quindi non ti preoccupare sono sulla tua linea però è meglio dire chiaramente una persona non ti apprezzo vai a fare il culo piuttosto che fingere e mimare un atteggiamento che non è tuo mi capisci meglio essere diretti e spontanei piuttosto che falsi ipocriti anche perché questo secondo me ti rode dentro e non ti fa superare e affrontare le problematiche che invece vuoi affrontare capito quindi il tuo il fatto di essere tu spontanea eccetera è una cosa buona ovviamente limitandola sempre ne cercando di stare più possibilmente se le persone proprio non ti fanno andare fuori dai gingari io non guardo a nessuno non guardo a nessuno io sono fatta da quanto ho avuto a mia figlia che sono così non guardo non guardo se è mia magia non guardo che sono amici non guardo niente io di come le prendo le posso come le 500 rubate non me ne frega niente sono arrivata ad un punto tante sofferenze è così sogna sono arrivata ad un punto che mi possono morire le persone di davanti non me ne frega niente non mi interessa eh lo so ti capisco devi però cercare anche di empatizzare con le persone che hai davanti capito quindi il training sulla sulle espressioni facciali di polec Soraya non ho parlato no ma adesso siamo arrivati siamo rimasti in cinque Marianna e la cosa se ne sono andate no l'analisa oggi proprio non si è collegata perché è in bulgaria no c'è Alma questo cosa si può fare pure così Alma sì beh ma Soraya magari la registriamo un'altra volta perché adesso è il lavoro e sta ecco la cosa la cosa che ti volevo dire è questo che devi comunque cercare di riduro perché pese a che sta medicando con tantos medicamentos sigue tenendo muchas crisis fuertes no quindi io come lo veo o se bueno mi percezione così ma di afuera è che ora quando a medida che ha volviéndose ma di io come lo vedo però non sono experti lo vedo ma 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 psicotico che Asperger honestamente però ma eso è lo vedo è è che è molto tema per esempio non è è molto complicato perché io lo llevo mi accompagna a mio lavoro tutto il tempo però ora si vuole più complesso perché mi empleo è un empleo pubblico, quindi cambiano i directori per temi di cambiare di governo, politico, eccetera quindi le persone che ora stanno a cargo non ved con buoni che mi accompagna il mio tutto il tempo quindi in realtà mi sta complicando molto mi sta complicando molto io con la condizione del Andres he acudito a una lei qui in Bolivia che quando hai un hijo con discapacità del 50% che sale un processo di evaluazione può può recurrire a una inamovilità laboral quindi perché non te possono votare di tuo lavoro se tienes un hijo in esas condizioni però è un problema per me perché le persone che attualmente stanno in carri jerarquico è come che hanno che hanno attuare la forza perché sempre chiedono su gente nuova Quindi, ora sto con questo problema, il Andresa ha avuto molte crisi ultimamente, non so che cosa sta passando, il problema è che non abbiamo capito bene quando stava iniziando questa crisi e, 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 ora, il tiene, 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 tiene temas de, tiene temas de, de rencor, de rabia contra nosotros, con, con su papà, conmigo, se le activan esos, io, per lo che veo, no, se le activan esos recuerdos e, e se molesta e se pone agresivo, ora sta così, e non sta dormendo, non so perché, non dorme, non dorme, non dorme, non dorme, non va bene così perché è peggiora, sì, sono molto preoccupata, non dorme, non dorme, non dorme, perché non va bene per i su cerebrali, perché deve riposarsi, relazarsi, no? Exacto. E non dorme, quanto sta tomando di ribotril, ora? A ver, te voy a dire lo che sta tomando, sta tomando, sta tomando, sta tomando un caldo di pastiglia, che io già sto desesperata, e sta tomando carbolitio, carbolitio, di 450 miligramos, 2 al día. Para un chico bipolar, il litio. Carbolitio. Se non sta bene, potrebbe essere che non va bene questo tratamento, tu sabes che il litio è molto difficile da regolar, come medicamenti. Si, exacto. Después sta tomando il limite o, che si chiama questo? Aripriprasol, Aripriprasol. Aripriprasol, non so se conosce. Aripriprasol, potrebbe essere... Aripriprasol, non so se conosce... Ariperpriprasol, è un variettico di terza generazione. Già, 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 come tratamento... di prendere il sogno che pones difficoltà a prendere il sogno agitazione nervosismo no è sto medicamento non va bene non sta bene per il per lì si è stato preoccupato però come come ha parlato viene o tiene disturbo della parola di amato tema habla bien habla bien eso le ha calmado cuando cuando estaba en crisis total eso ha sido lo que le ha calmado en un principio le ha calmado la calma de la